Ora si registrerà la conferenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, come sapete il dottor Del Giacomo non ci può assistere durante questo consiglio comunale per motivi di salute e lo sostituisce il dottor Coscarelli, a cui chiedo di procedere con l'appello. All'appello scendete il microfono e rispondete presente tenendo accesa anche la telecamera. Grazie. Buonasera, Carina Roberta presente Pozzò Emanuele presente Corbetta Alessandro presente Romano Flaviano presente Riva Paola Patrizia Bruscagin Davide presente Duca Giovanni presente Cacciatori Alessandro presente Tolotta Massimiliano Non la sento Non la sento Non la sento Non la sento Non la scoperta Alzico.. Alza la mano Alza la mano Va bene, comunque non la sentiamo Mirazzi Gianluca presente Gatti Vittorio Cazzaniga Sergio Gianni presente presente, si sente? la sento adesso Tettamanzi Maria Giovanna Giuseppina presente Villa Fabrizio presente Cattaneo Andrea presente Maddaloni Stefano presente Alfieri Piero Angelo presente quindi a me risultano assenti Riva Paola Patrizia e Gatti Vittorio sono presente Riva Paola Patrizia presente perfetto, non l'ho sentita ok, allora l'unico assente è Gatti Vittorio perfetto 16 presenti e una assente benissimo allora dichiaro valida e dichiaro iniziata questa seduta di consiglio comunale prima di partire due note brevissime di quello che già ci siamo detti telefonicamente ecco i capigruppo per la gestione del consiglio quindi ognuno manterrà la telecamera accesa ma il microfono spento quando dovrò dare la parola aprirò io stessa il microfono della persona che dovrà parlare abbiamo concordato che gli interventi verranno fatti esclusivamente dai capigruppo per le singole voci che verranno trattate un intervento per ogni capogruppo allora la tempistica non è stata stabilita però vabbè cerchiamo magari di non andare oltre un tempo troppo lungo ecco poi lo vediamo man mano possiamo stabilire sulla parte diciamo iniziale un paio di minuti e invece sulla parte che riguarda il bilancio 5 minuti massimi a testa se vi può andare bene come tempistica dopodiché si passerà alla votazione come richiesto mettiamo diciamo nella stessa trattazione la parte DUP e la parte bilancio di modo che e la parte degli emendamenti di modo che venga fatta tutta una presentazione unica più scorrevole poi ci saranno i vostri interventi come capigruppo dopodiché passeremo alla votazione per la votazione faremo come per l'appello cioè telecamera sempre accesa darò io il aprirò il microfono man mano che chiamo la persona per votare e si dirà favorevole o contrario o astenuto o a seconda come si fa normalmente quindi più o meno queste sono le regole che ci siamo dati per cercare di svolgere al meglio questa seduta a questo punto lascio la parola al sindaco Emanuele Pozzoli per trattare il primo punto all'ordine del giorno che è comunicazioni del sindaco Buonasera mi sentite? Intanto volevo unirmi al saluto al dottor Del Giacomo del presidente del consiglio sperando che si rimetta presto e ringrazio il dottor Coscarelli per l'immediata disponibilità in questa situazione oggettivamente difficile per permetterci di fare il consiglio comunale Prima di aggiornare il consiglio comunale su come la nostra città sta affrontando l'emergenza il pensiero non può non andare a quanti i nostri concittadini stanno combattendo eroicamente il coronavirus nelle corsie degli ospedali a rischio della propria salute sulle ambulanze della nostra Croce Bianca ma anche andando al lavoro tutti i giorni e insieme a loro dobbiamo il nostro abbraccio ai nostri concittadini che stanno combattendo il virus soffrendo nelle sale di rianimiazione negli ospedali o a casa e infine il più commosso dei pensieri ai nostri concittadini che ci hanno lasciato e alle loro famiglie questo maledetto ci ha portato via direttamente e indirettamente dalle colonne delle nostre famiglie dei nostri paesi e della nostra comunità persone che con il loro esempio concreto e quotidiano ci hanno lasciato soprattutto un insegnamento cioè vivere intensamente a loro e alle loro famiglie dobbiamo quando potremo il degno saluto che meritano ma credo fermamente che il modo migliore che abbiamo per onorarli sia rispettare quel loro insegnamento andando avanti vivendo intensamente e con tutti gli sforzi possibili non smettere mai di combattere da quando questa emergenza ci è piombata addosso abbiamo da subito affrontato non da soli ma con tutta la città questa emergenza muovendoci sostanzialmente su due linee guida la prima è stata la sospensione totale dell'attività amministrativa per concentrare ogni sforzo per dare assistenza ai miei lati alle famiglie in sorveglianza attiva e delle nuove fragilità conseguenti all'emergenza e la seconda linea guida è stata la scelta di non far pagare per primi questa emergenza a chi in emergenza lo era già cioè più deboli e più fragili da subito abbiamo messo in campo una serie di servizi che ora desidero elencarvi tutti perché il consiglio comunale oltre ai capigruppo che sono già stati informati conosca nel dettaglio quanto è stato fatto e quanto si sta facendo con il massimo sforzo per i primi tre numeri di telefono che sono stati messi a disposizione della città cioè il pronto farmaco destinato agli over 65 e alle persone in sorveglianza attiva che è attivo sette giorni su sette e che consente alle persone che hanno più di 65 anni e che sono in sorveglianza attiva di non uscire di casa per comprare farmaci per approvvigionarsi dei farmaci perché li vengono consegnati direttamente dal personale della protezione civile ad oggi sono state effettuate 95 consegni di farmaci il secondo numero di telefono è il pronto soccorso sanitario che è stato attivato da subito nell'ultima settimana di febbraio e che poi è stato anche successivamente richiesto dalla TS a tutti i comuni della nostra provincia e a tutti i comuni della nostra regione ringrazio per questo il dottor Lomanò che già in quel drammatico 23 febbraio si rese disponibile dopo la mia richiesta rivolta a tutti i suoi colleghi di stare qui quotidianamente e da allora non ha mai smesso per rispondere alle telefonate di molti cittadini che stavano male o anche che erano preoccupati per la loro salute il terzo numero di telefono messo in campo è quello destinato a informazioni generali per cercare di dare vicinanza e una voce alle persone che chiedevano informazioni e cercando di indicare loro quali servizi fossero stati messi in campo per questo ringrazio il personale dell'URP che ha potuto finché ha potuto finché non abbiamo dovuto lasciare a casa sostanzialmente i dipendenti comunali offrire questo servizio anche questo oggi viene svolto dalla protezione civile così come un altro servizio che è stato messo in piedi per quanto riguarda le persone che sono attualmente in sorveglianza attiva cioè la consegna della spesa per chi non aveva la possibilità e non ha la possibilità di uscire perché è in sorveglianza attiva portiamo direttamente noi la spesa a casa per garantire che non abbiano contatto con nessuno e per garantire comunque di poter mangiare durante le due settimane di quarantena in questo ci sta dando una mano anche l'altro servizio che è stato messo in campo e davvero devo ringraziare i tanti commercianti di Besana che hanno aderito e cioè la consegna delle spese alle persone che hanno più di 65 anni in questo momento non è possibile calcolare quante spese sono state consegnate a casa ma so per conoscenza diretta di alcuni di loro che sono davvero un numero estremamente rilevante consentendo quindi ai più anziani di non uscire di casa inoltre c'è stato un adeguamento in relazione all'aumento della consegna dei pasti quotidiani in relazione all'aumento dell'emergenza quindi quotidianamente i volontari dell'ordine di Malta consegnano 30 pasti al giorno a persone non autosufficienti o in condizioni di indigenza c'è stato un lieve aumento dopo lo scoppiare dell'emergenza abbiamo sopperito alla mancanza dei volontari Hauser che hanno potuto finché hanno effettuato servizio finché hanno potuto per questo ringrazio ma li abbiamo sostituiti poi con l'intervento dell'ordine di Malta inoltre abbiamo attivato delle telefonate scadenziate di assistenza alle persone in sorveglianza attiva andiamo in modo proattivo senza aspettare a cercare di capire quali sono le esigenze di queste persone che sono costrette in casa per precauzione perché hanno avuto a che fare con una persona che ha contratto il virus o perché si teme possano aver contratto il virus questo vuol dire anche che con una telefonata si fa anche dimostrazioni di vicinanza di presenza fisica oltre che una ricerca proattiva senza aspettare di essere contattati da queste famiglie inoltre inoltre è stata fatta la sanificazione delle strade in accordo con Gelsia e in accordo con tutti gli altri comuni della nostra provincia serviti da Gelsia secondo utilizzando una soluzione concordata appunto con l'azienda che ringrazio per la prontezza con la quale ha saputo coprire integralmente il nostro vasto territorio inoltre sono state fatte tutte quelle azioni che sono state richieste per quanto riguarda il controllo degli spostamenti sul nostro territorio controlli che sono avvenuti sicuramente ad opera dei carabinieri che di Milazio e della nostra polizia locale come polizia stradale da quando è attivo questo servizio sono stati fermati 259 veicoli vuol dire che lo sforzo di presenza sul territorio è stato davvero pressante al momento stiamo utilizzando 10 uomini della polizia locale inoltre oltre a questa attività è stata fatta anche quella comunicazione che tutti avrete potuto vedere attraverso un'auto della polizia locale con il megafono al fine di raggiungere tutta tutta la popolazione della nostra città mentre con i più giovani e anche le persone di mezza età riusciamo ad arrivare attraverso i nuovi sistemi di comunicazione che abbiamo messo in piedi in questi mesi Facebook ma anche Instagram mancava quella fascia di popolazione più anziana che era più difficile da raggiungere e per questo abbiamo utilizzato lo strumento della polizia locale inoltre sempre in mezzo a tutto questo sono state trasportate in dormitorio nelle condizioni che potete immaginare delle persone in critiche condizioni di disagio proprio per evitare che le loro condizioni di disagio fornisse terreno fertile e la diffusione del virus è stata organizzata sempre a cura dell'ordine di Malta la distribuzione di generi di prima necessità per i bambini per le famiglie seguite dal centro aiuto alla vita proprio per impedire l'utilizzo dei volontari anzi per evitare che i volontari uscissero insieme a questo sono stati assistiti nel trasporto sono state assistite nel trasporto le famiglie che avevano necessità di trasportare in ospedale malati oncologici e che non riuscivano per difficoltà loro ad utilizzare i mezzi di trasporto propri o di altri abbiamo garantito finché abbiamo potuto la presenza della protezione civile fuori dagli ambulatori medici quotidianamente per cercare di fare da filtro inoltre abbiamo lanciato una raccolta di mascherine facendo anche degli ordini che ci sono stati confermati per la prossima settimana e altri ne stiamo facendo al momento abbiamo raccolto 2400 mascherine più di mille sono state ordinate tre settimane fa e sono state distribuite ai seguenti soggetti alle persone in sorveglianza attiva tra cui alcuni covid positivi a domicilio perché loro stessi hanno manifestato la preoccupazione per gli altri una volta terminata la propria quarantena ad uscire di casa perché è sconsapevoli di essere potenzialmente ancora portatori del virus l'abbiamo distribuita a caregiver cioè alle persone che assistono i malati cronici i malati oncologici per protezione queste soprattutto le chirurgiche per protezione proprio dei malati le mascherine devono essere indossate innanzitutto dalle persone che assistono i portatori di malattia ovviamente abbiamo dotato il personale della protezione civile della polizia locale dei servizi sociali dell'ufficio cimiteriale dei medici di basi l'avis perché in un momento come questo le donazioni di sangue non possono calare perché per il stesso principio che dicevamo prima non devono essere le persone che hanno bisogno a dover pagare per prime questa emergenza le abbiamo fornite con priorità assoluta e quelle con la protezione più alta alla cooperativa che nel nostro comune fornisce assistenza e non autosufficienti ci sono persone a cui garantiamo l'alzata mattutina o letteralmente il bagno cioè la pulizia intima e personale mandando a casa del personale abbiamo garantito a queste persone i DPI necessari perché anche loro hanno iniziato a soffrire la carenza pur di garantire il servizio abbiamo dato a loro l'assoluta precedenza nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuale c'è una nota che vi devo fare tra tutte le mascherine che abbiamo raccolto alcune sono certificate molte non le sono ma le stiamo comunque raccogliendo le stiamo comunque distribuendo a fronte di questa necessità proprio oggi è arrivato inoltre il carico di mascherine che arriva da regione Lombardia e per cui stiamo attenendoci agli indicazioni della regione e soprattutto della nostra provincia di comune accordo con i 55 comuni della nostra provincia per la distribuzione delle stesse inoltre sono state raccolte 35 mascherine da snorkeling da dare alla protezione civile provinciale perché attraverso la realizzazione della valvola Charlotte stampata in 3D da un'azienda di concorezzo si riesca a dotare maggiormente i nostri ospedali proprio quelli della nostra provincia di nuove macchine che consentano la respirazione alle persone ricoverate inoltre proprio oggi sono stati raccolti sette letti presso l'RSA Oasi Dominicana di Besana per l'allestire costituendo ospedale reparto COVID presso l'ospedale di Giussano con l'obiettivo di portare in quella struttura i COVID positivi che non possono tornare a casa loro perché sono potenzialmente pericolosi per i loro familiari inoltre è stato realizzato proprio in queste ore l'impianto di distribuzione dei buoni spesa a fronte del contributo notevole bisogna dirlo che abbiamo ricevuto dal governo di 82.343 euro che è un sistema pensato per aprire il più possibile la fruizione attraverso un forum online e per dare indicazioni ai cittadini cosa vuol dire non soltanto ci limitiamo alla distribuzione del buono spesa ma cerchiamo anche di andare ad intercettare quelle nuove fasce di esigenza e di difficoltà che questa emergenza sta creando infatti vi posso comunicare sulle oltre 100 richieste già pervenute all'ufficio moltissimi sono casi che non conoscevamo moltissime sono le famiglie che i nostri servizi sociali non conoscevano questo strumento e quella piccola intervista che è stata pensata come form per accedere alla domanda ci consente di andare più in profondità nella richiesta e di dare un'assistenza vi do un dato semplicissimo aggiornato qualche ora fa su 25 famiglie che hanno il mutuo che hanno dichiarato di avere il mutuo in corso solamente 4 ci hanno comunicato di aver chiesto la sospensione un aiuto semplice e concreto è durante la telefonata che comunque ci sarà con loro trovare insieme il modo e la comunicazione giusta da dare alla propria banca per ottenere la sospensione visto che molti istituti di credito stanno comunque riconoscendo una sospensione dei mutui questo permette alle famiglie di avere già un respiro di liquidità nel mese di aprile e nel mese di maggio come ho avuto modo di dire in più occasioni nessuno nessuna delle famiglie che ci fa richiesta verrà considerata come un numero e quindi andremo a leggere caso per caso e a cercare di costruire un modello che per ognuno di loro che non sia soltanto una mera distribuzione del buono ma una reale comprensione della loro esigenza per cercare di affrontare insieme questo problema ci rendiamo conto e siamo perfettamente consapevoli che molto si poteva e molto si potrebbe fare ancora di più ma dobbiamo anche stare attenti a calibrare le risorse che non sono soltanto economiche quanto sono per lo più umane perché sono l'unica variabile fissa di questa emergenza e stiamo mettendo in campo credetemi la miglior professionalità che il nostro comune può offrire e c'è davvero tantissima umanità in questa professionalità ci sono nostri dipendenti comunali con i quali lavoro anche il sabato sia la mezzanotte non sto scherzando e per questo vi elenco i soggetti coinvolti la protezione civile sta sostenendo dei turni incredibili sta sostenendo turni da 8 uomini da lunedì alla domenica di 4 uomini per turno quindi 4 alla mattina 4 alla sera più altri reperibili su un totale di 14 uomini disponibili perché tutti gli altri partecipanti volontari della protezione civile o hanno dei genitori anziani a casa o sono anziani loro stessi quindi è il caso che non escano di casa abbiamo l'aiuto fondamentale dell'ordine di malta che ci fa la consegna dei pasti quotidiana agli indigenti non autosufficienti ha sostituito la caritas finora nella consegna dei pasti settimanali da oggi parte un nuovo servizio grazie a dei volontari benefattori di besana con una più ampia distribuzione di pacchi spesa per due settimane per ognuna di queste famiglie assicurato al trasporto dei malati non autosufficienti in ospedale e altre attività sono in divenire abbiamo potuto usare finché abbiamo potuto usare i volontari sostanzialmente per due attività il filtro delle utenze presso il comune la risposta telefonica per il pronto farbaco col fine di alleggerire il peso del lavoro della protezione civile ringrazio questi ragazzi ringrazio di cuore io penso che siano stati il volto migliore della nostra città e lo sono ancora offrendo la loro disponibilità abbiamo deciso di non utilizzare più volontari da una parte quando è arrivato il decreto che ci ha chiesto sostanzialmente di limitare al massimo la presenza in comune e dall'altra per non esporli maggiormente al rischio per cui noi stiamo utilizzando personali di protezione civile di ordine di malta perché è coperto da un'assicurazione perché ha fatto dei corsi di formazione personale perché è dotato dei dpi e soprattutto perché quando va a casa della gente noi possiamo assicurare alle persone che arriverà il personale della protezione civile o dell'ordine di malta perfettamente riconoscibile da una divisa e dall'automobile che guidano vergata questo ci aiuta a impedire il proliferare di tentate truffe che pure si sono verificate nella nostra città con delinquenti che si sono presentati a case dei nostri anziani sostenendo di essere del comune questo lo voglio ribadire un'altra volta non mandiamo personale comunale a casa le uniche persone che arrivano presso il domicilio dei cittadini di Besana sono o l'ordine di malta o la protezione civile o la polizia locale e sono tutti e tre tipi di personale assolutamente riconoscibili dalla divisa e dall'automobile la polizia locale per quanto vi dicevo prima per i controlli di polizia stradale per la comunicazione per il coordinamento del gruppo volontario di protezione civile i carabinieri che stanno sostenendo dei turni incredibili che danno la loro disponibilità oggi è un'altra disponibilità ci hanno offerto e per cui daremo comunicazione nei prossimi giorni davvero straordinaria di un'umanità profondissima l'URP per le informazioni generali i servizi sociali che rappresentano in questo modo la nostra linea del fronte che stanno veramente sostenendo un carico di lavoro impressionante lo stanno facendo con una professionalità straordinaria la comunità pastorale per le comunicazioni con la cittadinanza e alla cittadinanza e anche l'indicazione dei casi di emergente fragilità i medici di base per l'assistenza che hanno ricevuto dalla protezione civile per la collaborazione costante nell'assenerazione dei casi più preoccupanti e che andavano più trattati con delicatezza e anche per un consiglio costante di tipo anche scientifico l'RSA del nostro territorio perché insieme da subito abbiamo deciso un protocollo comune per affrontare l'emergenza per la fornitura dei primissimi dpi di cui eravamo sprovvisti e che sono stati forniti da un RSA la scuola che ringrazio nella persona del suo direttore Guzzetti per il riperimento del materiale sanitario di oggi dei letti che sono stati portati all'ospedale di Giussano e infine le dirigenze scolastiche tutte che hanno sempre dimostrato una straordinaria collaborazione e una comunicazione continuativa con me con l'assessore Viviani con l'assessore Fusco e col quale dovremo necessariamente nei prossimi giorni ragionare in questo momento l'aggiornamento sulla situazione sanitaria della nostra città vede nove decessi dovuti al covid 39 risultati positivi al covid e decine di persone in sorveglianza attiva posso dirvi che le persone che sono state in sorveglianza attiva e che ancora lo sono raggiungono una cifra tale che è vicino all'uno per cento della nostra popolazione quindi già questo dato vi fa capire che è uno sforzo enorme dare assistenza in questo modo a 360 gradi in una fascia così ampia della popolazione mentre non abbiamo contezza sul numero delle famiglie in quarantena volontaria perché ovviamente su decisione propria decidono di mettere a riparo gli altri e per questo le ringrazio e decidono di stare in casa anche per loro vale l'attivazione del sistema della consegna a casa della spesa per quanto riguarda i prossimi interventi proprio nei prossimi giorni che dovranno partire sono la distribuzione dei buoni spesa per il quale è già stato approntato un sistema di distribuzione all'esterno del nostro comune con delle tende realizzate dalla protezione civile un sistema di comunicazione straordinaria attraverso i social oltre alla pagina facebook che già c'era è stata aperta la pagina instagram per rivolgerci più velocemente ai giovani e stiamo attivando un sistema di comunicazione attraverso whatsapp che è già in uso in altri comuni più grandi del nostro e stiamo cercando di mutuare questa esperienza inoltre ci sarà la distribuzione delle mascherine in arrivo da regione lombardia per cui dobbiamo attendere le indicazioni che verranno dal presidente della provincia tutto questo è stato pensato organizzato e realizzato nel giro di 15-20 giorni per questo devo ringraziare i colleghi di giunta e i consiglieri comunali che hanno collaborato il personale della protezione civile che davvero sta facendo qualcosa di incredibile l'ordine di Malta nella persona del suo coordinatore lucisano che devo essere sincero non dice mai di no a qualsiasi richiesta i volontari che si sono offerti nella prima nella prima fase i medici di base le RSA del nostro territorio le dirigenze scolastiche la comunità pastorale i calabinieri uno per tutti Verlecchia mi dico una cosa anche se non vuole è da un mese che non vede la sua famiglia è da un mese che lavora 7 giorni su 7 10 ore al giorno a chi ha fatto e devo dire che sono tanti donazioni di ogni tipo economiche di materiale al nostro comune è arrivato di tutto in queste settimane e i nostri dipendenti che lascio per ultimo non a caso perché sono veramente la linea di trincea di questa battaglia e non c'è stato uno di loro che non ha dimostrato una disponibilità ben oltre quella professionale infine voglio dire una cosa ai nostri concittadini cioè che torneremo ad uscire a godere del nostro territorio a portare i bambini nel nostro palco inclusivo i nonni torneranno ad abbracciare i nipoti i bambini a giocare insieme e i figli ad assistere con amore i loro genitori anziani torneremo soprattutto a progettare il nostro futuro perché domani i nostri figli dovranno essere orgogliosi di come abbiamo affrontato questo momento difficile perché il virus non ha contagiato la nostra ferma determinazione di guardare avanti grazie presidente grazie signor sindaco devo fare una comunicazione al segretario dottor Coscarelli è arrivato il consigliere Gatti Vittorio che è qui in sala consigliare insieme a me e adesso glielo faccio anche vedere così può verificare la sua presenza non si fida giuro che sono io sono arrivato in ritardo perché non funzionava il collegamento a casa mia buon lavoro bravo prendo un parola allora va bene bravo sindaco è stato bravissimo grazie allora quindi lo rimettiamo presente lo rimetterei presente direttamente dall'inizio questo punto sì sì perché è già qui da un po' quindi io non ho voluto interrompere 17 presenti mi presentano perfetto benissimo grazie allora adesso lascio la parola come da richiesta al capogruppo Sergio Gianni Cazzaniga capogruppo di Besanattiva chiedo comunque di ripetere il nome con calma e il gruppo di appartenenza per la registrazione per una commento una replica come mi è stato chiesto adesso le riattivo e le attivo il microfono un attimo solo ok microfono è aperto prego parli pure grazie presidente proprio per la particolarità di questo nostro incontro faccio un faremo un unico intervento e lo farò sia per Besanattiva che rappresento sia per Besan4Future e sia per il partito democratico innanzitutto ci uniamo alle condoglianze del sindaco alle famiglie besanesi che purtroppo sono state colpite da un lutto a causa del coronavirus e questo è il primo dramma grosso condividiamo le parole del sindaco che dobbiamo di cui dobbiamo prendere atto siamo loro vicini in questo momento drammatico come siamo vicini a tutti i besanesi e ovviamente a tutto il popolo italiano che è ancora malato e a coloro che sono ancora in quarantina un ringraziamento nostro particolare va ai medici e agli infermieri in particolare che in questo momento stanno assistendo la nostra nazione e quindi anche la nostra città rismettendo addirittura a rischio la loro vita per aiutarci diamo la nostra piena e totale disponibilità espressa fin dal primo momento innanzitutto al signor sindaco all'amministrazione al consiglio comunale ovviamente alla città di Besano in Brianza il nostro pieno appoggio a tutti gli enti citati da chi mi ha preceduto quindi alla protezione civile all'ordine di Malta a tutti coloro che si stanno muovendo in questo momento perché in questo momento davvero la cosa più importante riteniamo che per la nostra città sia proprio questo dimostrarci uniti in quest'azione penso che le forze politiche presenti in questo consiglio comunale abbiamo potuto constatare come tutti si sia messa da parte diciamo le posizioni politiche per condividere l'insieme dei percorsi fin da quel davvero drammatico 21 di febbraio in cui incontrandoci in una riunione della protezione civile tutti eravamo presenti praticamente tutti abbiamo preso atto davvero della gravissima problematica che stava per colpire anzi che purtroppo già aveva colpito e che avremmo dovuto gestire ripeto gestire inesieme quindi noi sicuramente ci mettiamo a disposizione penso che si possiate tutti considerarci una parte di quella bella besana di cui parlava prima il sindaco ecco l'unica piccola osservazione non vuole essere una critica ma forse ecco potremmo essere coinvolti di più se c'è questa disponibilità sicuramente ci troverete come siamo già al fianco e cercheremo di dare ancora qualcosa in più che penso possiamo dare per la nostra città mi unisco anche in un augurio al dottor Di Giacomo che in questo momento si trova in una situazione di disagio di malattia a causa di questo coronavirus ci uniamo agli auguri espressi dal signor sindaco ho finito il mio intervento grazie adesso spegniamo il suo microfono e intanto lascio la parola invece come richiesto al capogruppo Massimiliano Tolotta adesso apriamo il suo microfono prego puoi parlare buonasera a tutti mi sentite? bene ho visto che c'è stato prima un problema con l'audio Tolotta Massimiliano Pozzoli sindaco io faccio questo intervento a nome del gruppo Pozzoli sindaco e del gruppo Lega ovviamente ci uniamo anche noi alle condoglianze del sindaco e degli altri gruppi a tutte le famiglie besanese italiane colpite dal lutto per questo virus volevamo fare un ringraziamento che è doveroso a tutti coloro che si sono messi a lavoro a disposizione per affronteggiare questa emergenza una situazione nuova di questa portata non si era mai verificata prima almeno negli ultimi cento anni non solo nella nostra comunità ma anche a livello mondiale un plauso va sicuramente al sindaco e alla giunta per come stanno gestendo l'emergenza direi in maniera egregia visto le dimensioni pocai dell'epidemia sia dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista della comunicazione utilizzando i canali social del comune per informare sempre in modo diretto preciso e puntuale i cittadini un ringraziamento va senza dubbio anche alla protezione civile ma anche alla polizia locale dipendenti comunali alla croce bianca al dottor romanò e a tutti gli altri numerosissimi volontari per il prezioso contributo dato finora in queste difficili condizioni una menzione particolare ai singoli benefattori che silenziosamente lontano dai riflettori hanno voluto donare a favore dei meno fortunati questa è la besana che ci piace che vorremmo sempre vedere perché chi fa veramente beneficenza non lo fa per farsi pubblicità è inutile in questo momento perdersi in dibattiti politici in un momento delicato come questo è il periodo dell'agire e non del discutere e senza dubbio riteniamo che non si potesse fare meglio rispetto a quanto fatto facciamo un appello a tutti i cittadini di restare a casa e di uscire solo per comprovate esigenze e necessità cerchiamo di fare un ultimo sforzo per non vanificare quanto di buono fatto finora in modo da uscire il prima possibile da questa situazione prima di concludere vorremmo anche fare un ringraziamento al dottor Coscarelli per averci permesso di svolgere questo consiglio comunale vista l'indisponibilità del dottor Del Giacomo grazie grazie consigliere Tolotta allora a questo punto passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno che prevede discussione su determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2020 lascio la parola all'assessore al bilancio Alcide Riva adesso apriamo il microfono se mi aprite il microfono dalla regia perché non riesco adesso è aperto puoi parlare grazie me lo sono aperto da solo mi sentite? sì ok perfetto allora sarò molto breve come ci siamo detti in questo consiglio comunale quindi la delibera è molto semplice si ripropone esattamente le stesse condizioni dell'anno precedente quindi l'aliquota IRPEF comunale sarà nella misura dello 0,7% e vi sarà l'esenzione fino a un reddito di 12.000 euro non ho null'altro da aggiungere su questa deliberazione bene grazie Assessore Riva se i capigruppo hanno necessità di intervenire fatemi un un cenno altrimenti passiamo direttamente alla votazione di questo ok passiamo direttamente alla votazione allora vi chiedo quando dico il vostro nome vi chiedo di accendere voi direttamente il vostro microfono così guadagniamo tempo se no io ora che trovo il vostro nominativo ci impiego mezz'ora accendete il vostro microfono e rispondete favorevole o contrario allora passiamo appunto a votare la determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2020 carena roberta favorevole brusca gindavide favorevole corbetta alessandro favorevole duca giovanni favorevole riva paola patrizia favorevole romano flaviano favorevole cacciatori alessandro favorevole merazzi merazzi gianluca favorevole favorevole tolotta massimiliano favorevole gatti vittorio favorevole alfieri pierangelo favorevole 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 cazzaniga sergio gianni astenuto cartaneo andrea astenuto Maddaloni Stefano Astenuto Tettamanzi Maria Giovanna Astenuta Villa Fabrizio Astenuto Chiedo al dottor Coscarelli di riepilogare i risultati del voto se la regia può aprirgli il microfono grazie Allora Carina Roberta favorevole Corbetta Alessandro favorevole Romano Fabiano favorevole Riva Paola Patrizia favorevole Brusca Gin Davide favorevole Duca Giovanni favorevole Cacciatori Alessandro favorevole Tolotta Massiliano favorevole Marazzi Gianluca favorevole Gatti Vittorio favorevole e Alfieri Piero Angelo favorevole quindi sono uno, due, tre quattro, cinque, sette, sette, otto, nove, dieci, undi Dottore mi scusi ho dimenticato di chiamare alla votazione il sindaco Lo in coda di fatti Stavo chiedendo quello Esatto Scusatemi Quindi Emanuele Pozzoli Favorevole Benissimo Allora uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici favorevoli compreso il sindaco che ha votato adesso Poi come astenuti abbiamo cinque astenuti che sono Cazzaniga, Sergio Gianni, Tettamanzi, Villa Fabrizio, Cattaneo, Andrea e Maddaloni Stefano Benissimo Che sono cinque Quindi abbiamo dodici favorevoli e cinque astenuti Benissimo Quindi Adesso passiamo a votare per l'immediata eseguibilità del provvedimento Rifaccio di nuovo la conta Allora Per l'immediata eseguibilità Carena Roberta Favorevole Brusca Gin Davide Favorevole Corbetta Alessandro Favorevole Duca Giovanni Favorevole Riva Paola Patrizia Favorevole Romano Flaviano Favorevole Cacciatori Alessandro Favorevole Merazzi Gianluca Favorevole Tolotta Massimiliano Favorevole Favorevole Gatti Vittorio Favorevole Pozzoli Emanuele Favorevole Alfieri Piero Angelo Favorevole Cazzaniga Sergio Gianni Favorevole Favorevole Cazzaneo Andrea Favorevole Favorevole Maddaloni Stefano Favorevole Tettamanzi Maria Giovanna Favorevole Villa Fabrizio Favorevole Quindi all'unanimità Unanimità Benissimo Allora Adesso Passiamo A discutere Il secondo E No Il terzo E quarto punto All'ordine del giorno Come abbiamo Stabilito inizialmente Quindi Documento unico Di programmazione Duemilaventi Duemilaventidue E bilancio finanziario Di previsione Duemilaventi Duemilaventidue Di nuovo La parola All'assessore Riva Alcide Sì Alcide Riva Allora Anche qui Ne abbiamo discusso In commissioni Sia del DUP Che del bilancio Abbiamo avuto modo Di discuterne In una riunione Ancora L'altra sera Quindi Non mi addenterrò Nella presentazione Del DUP In questo momento E neanche Una presentazione Molto lunga Sul bilancio Anzi Non ne parlerò Poi sostanzialmente Più che altro Daremo giustificazione Del motivo per cui Oggi siamo qui Ad approvarlo Questo sì Perché è stata La domanda Che ci è stata fatta Dalle minoranze E quindi Vogliamo motivare Il motivo per cui Siamo qui oggi Ad approvarlo E inoltre Essendoci Degli emendamenti Al bilancio Sarà solo Su questi Su cui Mi soffermerò Non entrerò Invece Sulle altre parti Del bilancio Allora Il DUP Che abbiamo Presentato In commissione In commissione Rimane ovviamente Variato De linee Programmatiche Politiche Che ci siamo dati E queste Non cambiano Chiaramente La situazione In cui siamo Fa sì Che molto probabilmente Il bilancio Che andiamo a provare Oggi I numeri Del bilancio Di oggi Verranno Sicuramente Modificati Nei prossimi Mesi Perché andiamo a provarlo Ad oggi Andiamo a provarlo Ad oggi Perché per noi È importante Non avere un bilancio Provvisorio Che non ci darebbe La possibilità Di operare Nella pienezza Nella piena Disponibilità Del bilancio Ma avere un bilancio Provvisorio Ci obbligherebbe A lavorare Almeno per Gran parte Di esso In dodicesimi Inoltre Non ci permetterebbe Facilmente Ad esempio Di costituire Il nuovo capitolo Che andremo a costituire Per mettere Dei fondi Sul coronavirus Diciamo Che avere Un bilancio Provvisorio Non è la migliore Condizione In cui noi Possiamo essere Quindi Per questo motivo Abbiamo deciso Di andare Ad approvare Il bilancio Anche sappiamo Siamo ben consapevoli Che Probabilmente Ci saranno Alcune Minori Spese E Probabilmente Molte Minori Entrate Ecco Ma questo Poi lo vedremo Cammin facendo Nei prossimi Mesi Però per noi Era fondamentale Non avere Un bilancio Provvisorio Ma avere Un bilancio Finalmente Funzionante Vi comunico Avendo parlato Con Ragionier Ronzoni L'altra sera Vi avevo già Comunicato Che andremo Poi successivamente Ad approvare Il bilancio Consultivo Ancora ad oggi Non ho una data Precisa Però volevo Comunicarvi Che Probabilmente Sarà fatto Intorno al 10 15 maggio E anche questo Lo faremo Prima possibile Perché Approvare Il consultivo Ci dà La possibilità Poi Di utilizzare In maniera Piena Anzi Ci dà la possibilità Di utilizzare L'avanzo Di amministrazione O meglio Gli avanzi Di amministrazione Cioè Non solo Quelli del 2019 Ma anche Quelli degli anni Precedenti E questa Per una situazione Come quella Attuale Ci dà Veramente La possibilità Di affrontare Nel migliore Dei modi L'emergenza Che stiamo Vivendo E che non sappiamo Quali Ripercussioni Avrà O potrà Ancora Avere Sulla Nostra Popolazione Quindi E questo Il motivo Per cui Noi Oggi Lo portiamo In approvazione Adesso Passo Velocemente A una Non vorrei Neanche dire Una discussione In realtà Voi tutti Avete già Ricevuto La delibera Di giunta In cui Si chiedeva Di accogliere O di non Accogliere Alcuni Emendamenti Come avete Visto Alcuni Emendamenti Sono stati Considerati Dagli uffici Non procedibili E altre Procedibili Comunque Io In questo Momento Li andrò A elencare Tutti E dirò Comunque Veramente Solamente Due parole Poi Io credo Che sul Bilancio Su quello Che succederà Avremo Modo E tempo Per Discuterne Anche In futuro E confrontarci Anche In futuro Quindi In realtà L'abbiamo Fatto All'inizio Di marzo L'abbiamo Fatto Anche L'altra Sera In una Diciamo Commissione Tre virgolette Commissione Barra Capigruppo Ristretta Ecco Avremo modo Sicuramente Di farlo Ancora In futuro Per noi Oggi E' importante E' importante Andare Ad approvarlo Allora Ci sono Stati Due Emendamenti Da parte Del sindaco Al bilancio Uno Che riguarda Tutti e due Vanno a costituire Il nuovo Fondo Coronavirus Quindi L'obiettivo Era questo Costituire Un fondo Coronavirus Dove Vengono Presi Soldi Vengono Presi Soldi Circa 27.000 Euro Dagli Aumenti Che Dovranno Sare Fatti Sulle Indennità Della Giunta Quest'anno Non verranno Fatte E vengono Portate In questo Fondo Inoltre Il sindaco Preso Essendo Assessore Alla Cultura Preso 5.000 Euro Dai Suoi Capitoli Della Cultura Perché Probabilmente Gli Fenti Culturali A Besana Quest'anno Saranno Di Veno Quelli Che Avevamo Intenzione Di Fare All' Aperto E Vengono Spostati Anche Questi Nel Nuovo Fondo Che Viene Creato Coronavirus Inoltre Viene Proposto Il Parziale Accoglimento Del Primo Una Parte Dell'emendamento Del Gruppo Partito Democratico Besana For Future E Besana Attiva Nella Parte Di 1500 Euro Dove Veniva Proposto Anche Qui Per Coerenza Una Riduzione Dell'IRAP Sui Compensi Dato Che No Abbiamo Comunque Siamo Andati Comunque A Togliere L'aumento Questa Riduzione Ci Pareva Assolutamente In linea Con quello Che era Stato Proposto E Quindi Per Questa Parte L'emendamento Viene Accolto Mentre Per Le Altre Parti Non Viene Accolto Anche Se Loro Stessi Proponevano 23.000 Euro Ma Dato Che È Già Stato Accolto Precedentemente Dall'emendamento Del Sindaco Ovviamente Questa Parte Che non può Essere Accolta Mentre Proponiamo Di Non Accogliere Gli Altri Emendamenti Che Sono Stati Proposti Dal Partito Democratico Mesana For Future Mesana Attiva Allora Il Primo Emendamento È Quello Che Vi Dicevo Si Proponeva Di Fare Un Fondo Su Coronavirus Prendi I Soldi Appunto Dalla Reduzione Di Standamento D'unità Del Sindaco E Assessori Dalla Reduzione Che ho detto Prima Che Veniva Viene Accettata E Dalla Reduzione Del Personale Il Secondo È Stato Considerato Non Procedibile Dagli Uffici E Riguardava Riguarda Ok Il Una Variazione Per Ripristinare Il Contributo A Villagretti Viene Considerato Non Procedibile Perché Comunque I tagli Che venivano Proposti Sono Già Delle Poste Definite E Politicamente Già Scelte Però A prescindere Da questo Anche se Non è Procedibile Comunque La nostra Valutazione Politica Su Questa Richiesta Perché Bene Dirlo Sarebbe Comunque Stata Di Mantenere La nostra Idea Attualmente Di Uscire Dal Consorzio Villagreppi E quindi Per questo Motivo Chiediamo Di non Accogliere La modifica Al bilancio Con questo Emendamento Stesso Motivo Il Il Numero 3 Che Riguardava Il Ripristino Della Lesione Al Cortonamento Degli Enti Locali Per La Pace Diritti Umani Per Gli Anni 2020 2021 2022 Anche In Questo Caso Trattandosi Di Una Cifra Molto Piccola Cioè Semplicemente 500 Euro È Stato Considerato Non Procedibile Però Anche Qui Voglio Dare Una Risposta Non Ed Anche Questa È Stata Comunque Una Scelta Politica Che Il Sindaco Ha Spiegato In Consiglio Comunale E Quindi La Linea Scelta È Quella Di Procedere Esattamente Nello Stesso Modo Mentre Il 4 Richiedeva Lo Stanziamento Di Una Cifra Disposizione Della Consulta Giovanile Per La Promozione Di Propri Eventi O Iniziative Ok Leggo Velocemente Poi Commento Solo Molto Brevemente Allora Lo Stanziamento Numero 4 Nella Delibera Degiunta Si dice Si è Ritenuto Non Prevedere Su Un'annualità 2021 2022 Tale Spesa Non Mancando Comunque Di Verificare A Tempo Debito La Possibilità Di Richiedere Sulla Base Di Appositi Bandi Nuovo Contributo Allora Questo Capitolo È Stato Creato Ad Abbiamo Partecipato A Un Bando Regionale E Abbiamo Vinto Quindi Abbiamo Ricevuto Una Cifra E Quindi Era Stato Creato Questo Capitolo Noi Crediamo Che In fondo Non sia Necessario Aumentarlo Poi Di Molto Questo Capitolo Perché Crediamo Che Gli Stessi Capitoli Della Cultura Che Noi Abbiamo Possano Essere Utilizzati Dalla Consulta Cioè I giovani Non debbono Avere Semplicemente Un Capitolo Ad hoc Quello Era per Un Progetto Ad hoc Però In realtà Siano Nella piena Disponibilità Di tutti i Capitoli Nella cultura O anche Degli altri Capitoli Perché In realtà I nostri Giovani Come Avete Già Ben Visto Anche Nelle Commissioni Spaziano Sui Vari Temi Quindi Non Volevamo Semplicemente Collegare I giovani A un capitolo Particolare Aumentando Quel capitolo Ecco In realtà Hanno La possibilità Comunque Di fare Proposte E di Andare A incidere Su tutto Il bilancio Comunale Il Emendamento Numero 5 Che riguarda Il ripristino Allo stanziamento In conto Investimenti Della quota Parte Destinata Alla Realizzazione Del collegamento Di Abitale Gera Besana Casano Tinovo Anche Questo Caso Qui Dice Si è operato In condività Con la decisione Del consiglio Comunale Numero 38 Del 2019 Con il quale Veniva azzerato Lo stanziamento Di 80.000 euro Confermando Le motivazioni Ok Quindi Anche qua Non viene Accolto La decisione È quella Di chiedere Al consiglio Comunale Di non Accoglierlo Perché Sostanzialmente Noi Non consideriamo Questa Un'opera Prioritaria Non lo consideravamo Alla fine Dell'anno Scorso Non lo consideriamo Neppure Oggi Non è che Non lo consideriamo Neppure Oggi A causa Del coronavirus Non lo consideriamo Non l'avremmo Considerato Così Anche Senza Coronavirus Per noi Questo Non è Il primo Investimento Sulla Viabilità Leggera Da fare Sul comune Di Mesana Ecco Se Vanno Fatti Investimenti Sulla Viabilità Leggera E Vanno Fatti Il primo Non è Questo Quindi Questa È La motivazione Politica L'ultimo Emendamento Richiedeva La riorganizzazione Degli spazi E l'ampiamento Di servizi offerti All'interno Di Villa Filippini Barra Biblioteca Mediante La realizzazione Di un'aula Adeguata E qualificata Riservata Allo studio Utilizzabile Dagli studenti Di Besana E attrattiva Per gli studenti Di paesi vicini Ricordiamo Che i nostri studenti Fanno spesso Ricorso Agli spazi Di altre biblioteche Quali Verano E Arco E tali spazio Dovrà essere Dotato L'impianto Wi-Fi Adeguate Strutture Nella progettazione Di questo spazio Si propone Il coinvolgimento Della consulta Della commissione Cultura Ok Nella risposta Che è stata data Nella delibera Di giunta Si dice Ad oggi Non si riscontano Progetti O analisi A supporto Di tale richiesta Si valuterà Più avanti In considerazione Anche delle risorse A disposizione E l'opportunità Di approfondire La tematica Quindi il motivo Per cui questo Emendamento Non è stato accolto Riguarda Il fatto Che non vogliamo Mettere In bilancio 70.000 euro Per dire Che faremo Una cosa Di cui ad oggi Non abbiamo Ancora un progetto Detto questo Noi per primi Abbiamo detto Nel nostro programma Elettorale Che pensiamo Che la biblioteca Vada assolutamente Rilanciata E anche E noi per primi Abbiamo comunque In animo Di Rivedere Magari Gli spazi In Villa Filippini Barra Biblioteca Per permettere Agli studenti Di avere Degli spazi Fruibili Per studiare Quindi Sicuramente Abbiamo in animo Di fare questa cosa Ma ad oggi Non ci sentiamo Di postare 70.000 euro Perché non sappiamo Se il progetto Che andremo a fare Ne richiederà 40 30 50 70 O magari Anche 120 Quando avremo Fatto l'analisi Contestualmente a questo Anche del patrimonio comunale Cosa fare Cosa non fare Allora andremo A fare una variazione Di bilancio Dove andremo A dedicare Le risorse Ad hoc Io Ho finito Con la trattazione Dei punti Grazie Grazie Assessore Riva Allora In base Alle prenotazioni A quello che mi avete scritto Do Prima di tutto La parola Al consigliere Alfieri Pierangelo Con il quale Mi scuso Perché mi aveva chiesto La parola Anche precedentemente Ma io Non ho Dato la chat Di qua E l'ho guardata Subito dopo E quindi Ho immaginato Per questo Non per l'intervento Quindi consigliere Alfieri Può anche fare Un intervento Su quello Sulla parte precedente Visto che non ho avuto Modo di farlo Al momento giusto Ecco Faccio solo Un'ultimissima Comunicazione Che mi dicono Che purtroppo Non sta andando In diretta Al consiglio Comunale Perché È un segnale Che blocca Il tutto Che dice Che stiamo volando Dai copiati Non sappiamo Stiamo violando E in questo momento Non sta andando In diretta Però è tutto registrato E appena terminato Verrà comunque Mandato in onda Sui canali Del comune Intanto si Vedderà Il perché Della cosa La parola Consigliere Alfieri Grazie Sì Alfieri Una città in dialogo Mi Scuso io Perché probabilmente Usavo uno strumento A posto di quel lato Per prenotarsi Sono le prime volte Che si usano Questi strumenti Quindi nessun problema Volevo Unirmi A Ringraziamento Signor sindaco E l'amministrazione Per quanto Messo in campo Con spiegamento Di forze E quanto umanamente Possibile Secondo le nostre Possibilità La commemorazione Dei nostri Dei nostri Caduti In questa guerra E ringraziamenti A Sperando che non Ce ne siano Più di caduti E ringraziamenti A quanti Si sono andati Da fare Al di là Dei compiti E delle competenze Previste Perché Penso che Sia in questi momenti Che viene fuori La vera anima Della nostra gente E l'ultima cosa Anche così Voglio dire Non voglio fare Ripetere tutta la fila Perché sarebbe Preunastico Ma è importante Ritengo anche dire Della grande Massa Dei cittadini Che hanno messo in pratica Hanno seguito Le indicazioni Che ci venivano Ci venivano date Tempo per tempo La battuta Era salvare Salvare l'Italia Salvare il paese Stando a casa Invece che Perché A chi gli tocca Purtroppo Fare di più Del proprio dovere La lista Dei sanitari caduti Ogni giorno Si allunga Anche adesso Anche nei nostri territori Nel nostro paese No Ma Anche Le persone Che seguono E che hanno seguito Le indicazioni Quindi devono essere Cioè voglio dire È una visione generale Positiva Io vedo Alla fine Di tutta questa attività Dove Non saremo più Tutti uguali Il modo di lavorare Basta pensare Allo smart working Il modo di fare scuola Il modo di concepire Un po' Tutte le relazioni All'interno Del nostro paese E questo Dovevo dirlo prima Però va bene Va bene Ecco Per quanto riguarda I temi Del bilancio Economico Noi pensiamo Che effettivamente Siamo davanti A una grandissima Incertezza In questo caso Proprio Dal puntista Delle entrate È vero che adesso Ci sono da amministrare Dei fondi straordinari Per fare fronte Però la situazione Socio-economica Purtroppo Finita Speriamo presto Ma anche Forse non sarà presto L'emergenza sanitaria Ci sarà L'emergenza sociale Economica Le attività economiche Saranno un grosso pensiero Chiaramente Non sono tematiche Che si esauriscono A livello Della nostra città Perché siamo Inseriti In il grande Complesso economico A questo punto A questo punto Noi pensiamo Di dare voto Di astensione Sui provvedimenti Economici Del DUP E della delibera Del bilancio Preventivo Non è il caso Di sprecare parole Entrare nei temi Non è il momento Delle parole È il momento Del fare Chi deve fare Faccia Sicuramente Noi Siamo qua Per collaborare Per vigilare Ove ci sia da vigilare Per migliorare Se possibile Ove sia possibile Migliorare Non è una visione Negativa È una visione Diciamo Realistica Di quello Che ci aspetta Grazie Il presidente Della parola Grazie Consigliere Alfieri Adesso lascio La parola Al consigliere Sergio Gianni Cazzaniga Grazie Presidente Sergio Gianni Cazzaniga Avesan Attiva Anche Per fare Introduzione A questa mia Esposizione È d'obbligo Far riferimento Al fatto Che stiamo Vivendo Una situazione Grave Di emergenza E nuova Dalla quale Non si può Distogliere L'elemento Del bilancio La modalità Con cui si sta Svolgendo Questo consiglio In videoconferenza D'altra parte Lo sta Fisicamente Anche Testimoniando I nostri cittadini Quindi Il nostro Approccio Al bilancio E al documento Unico Di programmazione Che ci vengono Proposti Per l'approvazione Come documento Politico Ovviamente Non sarà In nessun modo In un momento Così critico Fazioso Ma Al dovere Come ha detto Il signor Sindaco Dobbiamo Continuare Ognuno Di noi A fare La propria Parte Perché Facendo La propria Parte Che affrontiamo Questa difficoltà E poi ci prepariamo Per ritornare All'attività Aperta Della nostra città E quindi Era necessario Un passaggio Politico Importante Sul documento Che stiamo Provando E sul bilancio E allo stesso modo Una visione Su quello Che sta succedendo A Besana Ecco Signor Sindaco Secondo me Sarebbe opportuno Pensare A coinvolgere Le minoranze In questo caso In quella Che io Definirei Ma Proprio Perché siamo Davvero In un momento Di difficoltà E Ho apprezzato Anche Come dire I toni Usati dal Sindaco In questa introduzione Pensare Di fare Un'unità di crisi Nella quale Con il ruolo Che ha una minoranza Assolutamente Ma siano presenti Le minoranze In due settori In questo momento Fondamentali Non 50 I due elementi Fondamentali Sono i servizi sociali Come lei Ci ha ben spiegato Che sono Ha usato questo termine Se non sbaglio Il cuore Dell'azione Sui nostri cittadini In difficoltà E Economica E Di salute E Diciamo Una partecipazione Ripeto Ognuno Per il proprio ruolo Dentro Anche Un'unità Di crisi Che Gestisca Poi Il bilancio Perché Quello che Proveremo Oggi È un bilancio Per quest'anno Io non parlo Degli altri due anni 2021 e 2020 Ci auguriamo Che torni normale Ma per il Scusate 2021 2022 Ritorni normale Ma in questo bilancio Che facciamo Quest'anno Davvero È Diciamo così Un'approvazione Necessaria Tecnicamente Ma praticamente Simbolica Per i numeri Che ha Fatta questa premessa Però faccio capire Dov'è L'utilità Dell'unità Di crisi Perché altrimenti Sarebbe la solita battuta Di chi sta All'opposizione Il 14 marzo Giustamente Lei signor sindaco Ha chiamato Tutti noi capigruppo Per una prima Comunicazione Sull'andamento In quell'occasione Se si ricorda Proprio personalmente A nome dei nostri Gruppi L'Espressila Il dubbio Che ci fosse Nel suo richiamo Anche Una necessità Di attenzione Al fatto Che noi dovevamo Per forza Portare Nei tempi Più brevi Possibili Il bilancio In approvazione Proprio per uscire Mi ricordo Che usai questo termine Dalla difficoltà Della gestione In dodicesimi E anzi Aggiunsi Dovremo portare Molto velocemente Anche Il bilancio Consuntivo Per permettere Eventualmente In caso di necessità Di poter accedere Agli avanzi La risposta Del signor sindaco In quell'occasione Fu L'approvazione Del bilancio È stata Rimandata Al 31 Di maggio Io Lo comprendo Non vuole Cerchiamo di capirci In quell'occasione Giustamente I problemi Del sindaco Erano ben altri Probabilmente Non tanto Di un bilancio Che è la cosa Più importante Per lui Ma magari Concentrato In altri Problemi Di altro genere Non considerò L'importanza Di quella Di quella Mia affermazione Proprio perché Magari In altri Spazi Se l'avessimo Fatta Con più calma Con l'assessore Al bilancio Che in quel momento Poteva dedicare Più attenzione Alla problematica Avremmo magari Concordato Dei passaggi Che potessero Anticipare Questi tempi Perché adesso Io capisco Che c'è una necessità Di sbloccarlo Ed è l'incontro Che facciamo oggi Ecco Mi sono soffermato Proprio per Farsi Dire anche Ai consiglieri Che non è Un discorso Pro forma O perché Lo si deve dire In consiglio comunale Quello di dire Pensiamoci bene Al Ripeto Avendo ormai Un'esperienza Pluriennale Di consiglio comunale Nel rispetto Delle proprie Posizioni Delle proprie Responsabilità politiche Gli amministratori Sono Gli elementi Di maggioranza Di questo consiglio Siamo in minoranza Ma possiamo In alcuni casi Dare una mano Per esempio Velocizzare L'approvazione Ora Provato in questo modo Il consiglio di oggi Veniva fatto In una maniera Diversa Si arrivava a dire Che questa Era un'approvazione Tecnica Che avremmo poi Discurso invece Le questioni politiche Del bilancio Di quest'anno Dentro quella Unità di crisi Detto questo Io faccio riferimento Al documenti ufficiali Che sono quelli Del DUP Che avete presentato Se entro In questo In questa Direttamente Nel bilancio E' La proposta Che abbiamo fatto Più avanti Faccio riferimento Alla nostra Interrogazione Del 23-3 In cui abbiamo detto Vabbè Visto che il bilancio Viene rimandato Al 31 di ottobre Nell'approvazione Non ci sono problemi Allora Ritroviamoci in commissione E ridiscussiamo Tutto il bilancio Capisco Dalle parole Dell'assessore Che questo Non è opportuno Perché ha necessità Di avere Una libertà Maggiore di azione Detto questo Rispetto alla Prolograzione Politica Contenuta Nel DUP Passo a fare Delle osservazioni Dal DUP Presentato E contenuto In questi documenti Manca A questa Amministrazione Una visione Strategica E una Progettualità A lungo termine Che tenga Conto Delle possibilità Di collaborazione Con comuni Limitrofi E con altri Enti locali Per la realizzazione Di sinergie Ed economie Di scala Possibili Esempio Nell'abbandono Del progetto Di cooperazione Intercomunale Intrapreso Con i comuni Di Besana Inverianza Triugio Casatenovo Missaglia Monticello Attraverso il quale Ad esempio A seguito Delle rilevazioni Avviate nel 2018 Da Anci Lombardia Sulle modalità Di acquisto Di beni e servizi Nei comuni coinvolti Sarebbe possibile Promuovere E coordinare Effettive esperienze Di condivisione Delle procedure Di approvisionamenti Di beni e servizi Nell'ottica Di una gestione Più efficiente Di qualità Altro esempio Il recesso Dall'accordo Con 13 comuni Per l'esplettamento Condiviso Della procedura Di gara E delle attività Connesse Ai fini Dell'affidamento Del servizio Di illuminazione Pubblica Perché si vuole Procedere Alla gara Da soli Secondo noi In questo modo Con minore potere Contrattuale O ancora Il recesso Dal consorzio Villa Greppi Scelta che riteniamo Profondamente sbagliata Oltre che In contraddizione Con la storia Della nostra città Che fu Tra i fondatori Del consorzio Come abbondantemente Spiegato Nel consiglio Comunale Del 27 11 2019 Per non dire Della rinuncia All'accordo Con il comune Di Casatenovo Per la realizzazione Di una pista Ciclopedonale Per collegare La nostra città All'ospedale Di Montereggio E all'istituto Di scuola superiore Villa Greppi Perdiamo Con un'ultima Delibera da voi fatta La possibilità Di realizzare Un importante collegamento Di viabilità Leggera Ecco In questo caso Sarebbe stato Più opportuno In questa situazione L'avremmo discusso Magari in quella Unità di crisi Di cui parlavo prima Del fatto Non di farla Ma di Prorogare Per più anni La possibilità Di poterla fare Quell'accordo Farlo diventare Da triennale Quinquennale Perché sicuramente Quest'anno Nessuno lo può fare Ma lasciando aperto Una possibilità Di ripensare Alla sua realizzazione Abbandonato Il coordinamento Nazionale Degli enti locali Per la pace E diritti umani Perché dice La delibera di giunta In assenza Di ricadute Sul territorio Al fine Di contenere La spesa Ecco Qui così Davvero Stiamo parlando Di 500 euro Annuali Ecco Contenere le spese Così Ci sembra Proprio Un senso Quando sarebbe Importante Invece chiedere Ai giovani Della consulta Di occuparsi Di pace Di integrazione Con il cordimento Nazionale Quale ricaduta Sul territorio Si aspetta Questa amministrazione Difondere Una cultura Di pace E di per sé Un'importante Ricaduta Sul territorio Di risultati Strettamente concreti La prospettiva Che il DUP Ci restituisce È quella Di una città Che ripiega Su se stessa Che vuole fare Da sola Perché così Pensa di valorizzare Al meglio Le proprie risorse Economiche Culturali Qui potremmo Citare Lo slogan Prima gli italiani Che questa amministrazione Traduce in Prima besana I besanesi E può diventare Poi però Attenzione Prima la mia famiglia Poi la tua O addirittura Un prima io E poi tu Se continuiamo Andare avanti così Ma che così facendo Rinuncia alla collaborazione Fra enti Per il bene comune Rinuncia All'ottimizzazione Dell'uso Delle risorse Sia culturali Che economiche E rinuncia Al confronto Faccio un esempio L'aver continuato La collaborazione Di gelsia Avendola invece Aperta a molti Più comuni Alla fine Ha portato A un importante Intervento In questa situazione Diciamo così Di crisi Utile per tutti Quindi Spesso Il riuscire A condividere Meglio Da questo DUP Si evince Che aumentano I costi fissi Prevalentemente A causa Dell'assunzione Di personale Previsto Dal piano De falvisione Del personale Per il triennio 2020-22 L'incremento È di 100.000 euro Circa A partire Dal 2020 Tendenzialmente Riteniamo Che non si debba Aumentare La spesa pubblica Corrente In particolare I costi fissi Strutturali Ma si debba Perseguire L'ottimizzazione L'efficienza Nell'utilizzo Delle risorse Disponibili Ripetiamo Anche In collaborazione Con altre realtà Il piano Di falvisione Del personale Elaborato Da questa Amministrazione Con delibera Di giunta Numero 203 Del 2410 2019 Non ha Inallegato Nessun studio Report Relativo All'efficienza Delle risorse Impiegate In rapporto E servizi erogati Evidentemente In questo caso Fatta eccezione Degli Indispensabili Cambiamenti Di personale Per il pensionamento E' stata costituita La consulta Giovani Con grande risonanza Data All' Ed è stata Dante Grande risonanza A questo Questo elemento Sia sul Besanese Che sulla Stampa Locale Poi questo Dupa Il capitolo Giovani 2020-21 Non assegna Un minimo Di risorse Autonome Per proporre Iniziative Difatti E' la citazione Del bocciato Nostro emendamento Che richiedeva L'assegnazione Di Euro 5000 Aumentano Le indennità Di funzione Al sindaco E alla giunta Inizialmente L'aumento Era stato previsto A partire Da quest'anno Poi con Emendamento Il sindaco Ha sospeso L'aumento Pari A Euro 27850 Per l'anno 2020 Destinandolo Alla creazione Di un fondo Emergenza Coronavirus Cosa peraltro Richiesta Anche dal nostro Emendamento L'aumento Però Confermato A partire Dal 2021 Ecco In questo caso Ricordiamo Al signor Sindaco Che si era Impegnato Pubblicamente Con i Bisenesi In campagna Elettorale A non dar corso Nessun aumento Di indennità Di funzione In un dibattito Pubblico E quindi Davanti a tutti Non troviamo Nel DUP Progetti Per rendere Questa città Più fruibile Certo E' previsto Che gran parte Degli investimenti Vada in Asfaltature Delle strade Necessarie Ma non sono L'unica priorità Abbiamo proposto Tramite emendamento Una riorganizzazione Degli spazi Della biblioteca Con la creazione Di un aula studio Riservata ai nostri Giovani studenti Dotata di adeguati Strumenti Finalizzata Ad attrarre I nostri ragazzi Che spesso vanno A studiare In biblioteca E altri paesi Ma la proposta Non è stata accolta I nostri studenti Sono un patrimonio Della città Sarebbe bello Inoltre Questa è un'altra proposta Così un po' più Ostemporane A raccogliere In quest'aula Studio Le tesi Di laurea Dei besanesi E farle diventare Patrimonio di tutti Sarebbe interessante Queste sono le nostre Principali osservazioni Al du Proposto Che è lo strumento Di programmazione Politica Per eccellenza Facendo riferimento A quello Che si era discusso In commissione A febbraio Ma il mondo È cambiato È sicuramente Ogni previsione Fatta allora È di fatto sconvolta E allora Lascio la parola Ci sarà Probabilmente in ordine L'intervento adesso Del mio collega Villa Fabrizio Che esporrà Le nostre Riflessioni Riguardo Ai cambiamenti Ecco Concludo Ribadendo Al signor sindaco A nome di Besan Attivo Ovviamente Che rappresento La massima Disponibilità A fare Di più E a dare Di più Collaborando Con l'amministrazione In questo momento Di grave difficoltà Per la nostra città Grazie Grazie consigliere Cazzaniga Quindi adesso La parola A consigliere Villa Fabrizio Grazie 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 Presidente Come diceva Il mio collega Sergio Cazzaniga Il mondo È proprio cambiato Per certi versi È anche Crollato E rispetto Rispetto al momento In cui sono stati stesi Il bilancio E il documento Unico di programmazione Un'approvazione Si è creata Veramente una gravissima Situazione di emergenza A seguito Della diffusione Dell'epidemia Che ha E avrà Importanti riflessi Sul bilancio Proposto A questo proposito Osserviamo Che questa situazione Straordinaria Cambia Le prospettive politiche Viviamo Un'emergenza Sanitaria E un'emergenza Economica Senza precedenti Che ci costringe A cambiare I programmi politici Quali interventi E quali risorse Devono essere Messe in campo A livello comunale Con le tensioni Che si prospettano Sulle entrate Da imposte Tributi Quali rischi Corriamo Sulla tenuta Dell'equilibrio Di bilancio Del 2020 Ha senso Prevedere incrementi Di costi strutturali Come per esempio L'assunzione Di nuovo personale In questa situazione Sarebbe a mio avviso Stato opportuno Aprire un confronto Su questi temi Con tutte le forze politiche E magari Riscrivere il bilancio Perché così come proposto Non è attinente Alla realtà Non contiene Previsioni reali Faccio presente Che tutti i capigruppo Di minoranza Hanno richiesto Un confronto Sottoscrivendo Un'interrogazione Inviata Il 23 marzo Con la quale Dicevamo Che come capigruppo Abbiamo confermato Al sindaco Da lui Convocati In una riunione Da remoto Sabato 14 marzo La nostra disponibilità A collaborare Nella gestione Di questa emergenza Riteniamolo Richieda Il nostro ruolo Istituzionale Di rappresentanti Eletti Dei cittadini Di cui ci sentiamo responsabili La situazione Che si è creata È nuova È straordinaria È grave Servono Confronto Contributo E idee di tutti A maggior ragione Dei consiglieri comunali Per analizzare La situazione E il suo evolversi E individuare Gli interventi necessari A fronteggiare i problemi Naturalmente Con il coordinamento Dell'amministrazione Comunale Quindi chiediamo All'amministrazione comunale Se intende strutturare Un confronto Almeno settimanale Con tutti i capigruppo Per aggiornare I consiglieri comunali Della situazione Coronavirus Nel nostro comune E individuare I possibili interventi Da porre in alto Chiediamo Di coinvolgere I capigruppo E i consiglieri Nei limiti Delle loro disponibilità E delle loro competenze Tutte le minoranze Non avendo ricevuto risposta Hanno inoltrato Un'ulteriore interrogazione Il 30 di marzo Dove si richiedeva Con la massima urgenza L'istituzione Di incontri Almeno settimanali Di tutti i capigruppo Presenti in consiglio comunale Questo Permetterebbe I capigruppo E ai loro consiglieri Rappresentanti Di un'importante parte Della nostra comunità Di essere informati Sull'evolversi Della crisi Covid-19 In questa fase eccezionale Che sta attraversando Il nostro paese Risulta indispensabile Una condivisione E una collaborazione Della definizione Di azioni E percorsi amministrative E di informativi Che aiutino Supportino E accompagnino La nostra comunità locale Nessuno Ripeto Nessuno Vuole stravolgere O confondere Gli ruoli consolidati E riconosciuti Tuttavia Questo vuole essere Un ultimo appello Nel pieno spirito Di collaborazione Che ci sembra Non sia stato Pienamente raccolto Finora Dall'amministrazione Il governo Con il decreto Del 17 marzo 2020 Conosciuto come Decreto Cura Italia Ha previsto Tra le altre cose Una serie di interventi Per consentire Agli enti locali Di far fronti Alle spese Per l'emergenza Corona Che possono avere Importanti ripercussioni Sul bilancio Che stiamo esaminando L'articolo 107 Ha prorogato Al 31 maggio Il termine Per l'approvazione Del bilancio Di previsione 2020-2021 L'articolo 109 Prevede Che gli enti locali Limitatamente All'esercizio Finanzario 2020 Possano utilizzare La quota libera Dall'avanza Di amministrazione Per il finanziamento Di spese correnti Connesse Con l'emergenza In corso E questa Un'importante Fonte Di finanziamento Per le spese Connesse All'emergenza Del coronavirus Ma per poterlo Utilizzare Diventa prioritario Concessione Edilizio L'articolo 112 Prevede Che il pagamento Delle quote capitali Dei minuti Concessi Dalla cassa Depositi E prestiti Agli enti locali È differito All'anno Immediatamente Successivo Alla data Di scadenza Del piano Di ammortamento Contrattuale Il risparmio Di spesa È utilizzato Per il finanziamento Di interventi Utili A far fronte All'emergenza Covid-19 I documenti In approvazione Oggi Mi pare Non recepiscono E non fanno Riferimento Alle possibilità Offerte Da questo decreto E la quantità Di risorse Che possono essere Messe in campo Dagli interventi Finora messi in campo Il governo In questo bilancio Viene Solamente E giustamente Ricepita Con l'emendamento Del sindaco La somma Di 82.350 euro Assegnata Al nostro comune Dall'ordinanza Del dipartimento Della protezione civile Per la finalità Di solidarietà alimentare Credo Se non mi sbaglio Che poteva comunque Anche essere fatto Con una semplice Delibera aggiunta Però non vorrei Sbagliarmi Nella sostanza Ci state chiedendo Di approvare Un bilancio Che è manifestamente Desallineato Con le più recenti Evoluzioni normative Che cosa che A mio avviso È anche peggio Con la realtà E le priorità Della città Se ci chiedete Di farlo Per avere Flessibilità Amministrativa Allora piuttosto Approviamo Il bilancio Consuntivo Del 2019 Così da poter Utilizzare Per l'emergenza Quindi decidiamo Solo noi Le minoranze Rappresentano Il 40% Della popolazione Siamo responsabili Nei loro confronti Per la delegacia Che ci hanno conferito E siamo responsabili Nei confronti Di tutti i cittadini Per il ruolo Istituzionale Che ricopriamo Chiediamo Pertanto All'amministrazione E alla costituzione Di un'unità di crisi Nella quale Siano coinvolte Tutte le forze politiche Rappresentate In consiglio comunale Che abbia il compito Di esaminare I problemi umani Sanitari Ed economici Dei cittadini E delle realtà Imprenditoriali Di Besano Derivanti Dalla situazione Di emergenza E di ricercare E proporre interventi A sostegno Delle persone E delle realtà Di difficoltà Siamo disponibili A mobilitarci Per una collaborazione Faculta Concludo Con un piccolo slogan Che ripeterò Anche più di una volta Più unità Più unità Più unità Solo con il coinvolgimento Di tutti Potremo superare Questa sfida evocale Grazie Ah e niente Poi Volevo anch'io Come dire Unirmi Al cordoglio Che è stato Pronunciato Dal sindaco Da tutti Quelli che mi hanno preceduto E faccio Anche a nome mio Del gruppo Rappresento Le più sentite E sincere condoglianze A tutte quelle famiglie Che sono state Così profondamente Colpite Da questa Vero e propria tragedia Grazie Grazie Presidente Grazie Consigliere Villa Adesso la parola Al Consigliere Stefano Maddaloni Sì Grazie Presidente Stefano Maddaloni Besana for Future Io Mi ricollego subito Partendo dalla fine Dell'intervento Di mio collega Fabrizio Facendo Anch'io Le condoglianze A A quelle persone Che hanno subito Una perdita In questo momento Di grave difficoltà Che credetemi Anche personalmente Mi sta pesando Perché vedo Di fronte a me Comunque E riconosco Come penso Tutti voi Una grave situazione Di emergenza Che È un'emergenza Sanitaria Un'emergenza Che sicuramente È anche Economica Ma che diventa Un'emergenza Sociale E questa parte Questa dimensione A mio avviso È quella che poi Si sente anche Più pesantemente Di fronte a questa situazione Diciamo Di emergenza Sulla quale Credo tutti Abbiamo avuto modo Di riflettere In questi giorni Io ho fatto però Anche una riflessione Su un'altra parola E ci tengo a condividerla Nel mio tempo E nel mio intervento Cioè la riflessione Sulla parola Responsabilità Cioè di fronte A questa situazione D'emergenza In cui anche I nostri cittadini Sono coinvolti Mi sono Ho fatto una riflessione Mi sono chiesto Che tipo di responsabilità Noi abbiamo Noi come consiglieri comunali Io credo che In questa Videoconferenza Direi in questa stanza Se ci trovassimo in comune Ci sono persone Che più o meno Che hanno Cioè hanno una responsabilità Chi più che meno Chi come consigliere Chi come amministratore Chi come sindaco Perché tutti abbiamo Un ruolo Un ruolo che Rappresenta i cittadini Rappresenta chi ci ha votato Ma rappresenta in generale Proprio i cittadini Nella nostra città E di fronte a questa Diciamo Riflessione Sulla responsabilità E sul mio ruolo Io mi trovo in difficoltà Se penso che In questo consiglio comunale Si vanno ad approvare O comunque Vengono ad essere presentati Due documenti Che sono il DUP E il bilancio Che io lo dico poi Anche per magari i cittadini Che ci guarderanno Quando il video sarà caricato Perché magari non tutti Sono a conoscenza Di questi tecnicismi Il DUP e il bilancio Sono due documenti Fondamentali Cioè potremmo dire Il cuore Se vogliamo dire così Di un'attività amministrativa Cioè nel DUP Vengono stabilite Le priorità La visione di città Le strategie Con cui intervenire Ok? Su quella che è la città Nel bilancio Vengono messi Fisicamente Le risorse Della nostra città Vengono stanziate Le risorse Della nostra città Per andare a Attuare Quanto detto Nel DUP Per me Mi trovo seriamente In difficoltà Nel vedere due documenti Cioè nel vedere Vedermi la richiesta Di approvare Due documenti Di così fondamentale importanza Senza che essi Diciamo Siano Rispecchino In qualche modo La situazione Di difficoltà Di emergenza Nella quale ci troviamo E senza che essi Diano delle risposte A quelle che io mi immagino Possano essere Anche le domande Di molte persone In questo momento Famiglie Che magari Hanno delle difficoltà Oggettive Imprenditori Che si trovano Nella difficoltà Di Non so Non so Magari Non sanno neanche Se riusciranno A pagare i propri dipendenti Non sanno come Quando pagare le tasse E una parte di queste Sicuramente riguardano Anche il comune Quindi io mi chiedo Noi abbiamo La responsabilità Di votare Due documenti Che poi letteralmente Cambiano le cose Cioè io Ho fatto proprio Questa riflessione Questi due documenti Che noi approviamo Cioè Le decisioni Che noi facciamo Poi hanno davvero Il potere di creare Una realtà Piuttosto che un'altra E per me È impossibile È improponibile Il fatto che All'interno Di questi due documenti Che noi Ci accingiamo A provare Non ci sia Non ci sia Una riflessione Su quella Che è la dimensione Di emergenza attuale Non entro in quelle Che sono Diciamo Le riflessioni Anche che abbiamo fatto In merito Agli emendamenti Proposti Che sono stati Molto esaustivi A mio avviso Sergio e Fabrizio Io concordo Su tutto quello Che è stato È stato detto E non nego Che ci sono molte Anche contraddizioni Rispetto a quello Che voi Vi eravate Proposti In diverse sedi Rispetto a quanto Poi avete anche Dichiarato di voler Fare nel DUP Però io credo Che ci sarà il momento Di poter fare Questo tipo di discussione E sarò molto Lieto di portare Il mio punto di vista Però dico Quando parliamo Di coinvolgimento E quando parliamo Di Di confronto Noi chiediamo Proprio questo Cioè Noi chiediamo Di sfruttare Quello che è Il capitale umano Che vedete In questa videoconferenza Che siccome Giustamente C'è un'emergenza In corso Il sindaco L'amministrazione Sono occupati Giustamente A gestire Questa emergenza Noi Questo capitale umano Che vedete In questa videoconferenza Avrebbe potuto Lavorare Facendo Quello che Noi Come consiglieri Abbiamo la responsabilità Di dover fare Cioè Aprire i tavoli Sulla commissione bilancio Ripensare Al bilancio Fare lavorare Anche per esempio La commissione La consulta giovani Cioè Adesso abbiamo Lavoriamo tutti In smart working Anche la consulta giovani Io Mi sento Poteva dare Il proprio contributo Facendo cosa Non lo so Ipotizzando iniziative Pensando anche A valorizzare L'aspetto culturale Che Io sento Molto Profondamente Colpito Da questa situazione Perché poi Chiaramente La cultura In tanti Momenti Passa in secondo piano E su questo Noi potevamo fare Molto Credo Si possa ancora fare Però Su questo Anche noi Abbiamo chiesto Di intervenire E poi Anche in relazione Alla commissione Non si è fatto Nulla Io sono Davvero Questo tipo Di Il fatto che Non ci sia stato Coinvolgimento Però a mio avviso Deriva dal fatto Che Manca Questo approccio Nei confronti Del consiglio comunale E delle istituzioni Politiche Da parte vostra Credo manchi Questo approccio Volto a guardare Il coinvolgimento Propositivo Delle persone Che sono qui In questa videoconferenza E non posso E non potevo Non far presente Questa mia riflessione Io dico queste cose Chiaramente In modo critico Sono profondamente Diciamo colpito Anche Sono stato profondamente Colpito anche In modo negativo Rispetto a questa cosa E dico con fermezza Quello che sto dicendo Ma lo dico Perché A monte Di quella responsabilità Di cui parlavo prima Perché Come consigliere comunale Io posso fare questo Posso dare il mio contributo Visto il mio ruolo Su questo Anche sul bilancio Perché in una situazione Di emergenza Ci deve essere anche Chi pensa A questo Cioè al bilancio Oppure alle azioni Amministrative o politiche Che si possono mettere in campo Perché Io non sono Non sono d'accordo Sul dire che Se si fanno certi discorsi Si mettono in secondo piano altri L'emergenza È una dimensione complessa Ed è giusto Grazie Che ci sono persone Che si stanno occupando In prima linea Per cercare di risolverla Ma anche Il rendiconto Che ha fatto prima il sindaco Io credo che sia Che rispecchi molto Anche quanto si stia facendo Concretamente Per l'emergenza Anche sanitaria Ma ci deve essere Qualcuno Che pensa Anche a questo E qui siamo noi Siamo noi consiglieri Però Se non c'è Il coinvolgimento Se non c'è La possibilità Di farlo Io mi trovo Precluso Precluso Della possibilità Di dare il mio contributo Fattivo A questa dimensione Io Niente Concludo questa riflessione Che davvero Volevo lasciare così Anche molto Se volete Idealistica Per farvi riflettere Un po' Su quello che è Il senso Delle cose che facciamo Concordando poi Con la proposta concreta Di aprire un'unità di crisi Che può Concretamente Secondo me Aprire Uno spazio Di un dialogo Tra le persone Che ci sono qui Mantenendo sicuramente Quelli che sono Gli equilibri Politici Gli schieramenti Eccetera Ma perché Perché sicuramente Vanno rispettati Ma in questo momento Credo che possa essere Una risposta molto utile Per Besana Perché c'è bisogno A questo livello Di far circolare idee Di far circolare proposte Di far circolare competenza Di analisi Di riflessione Di quello che Vediamo intorno a noi E di dare delle risposte Concludo il mio intervento Dicendo quello che Cioè riprendendo un passaggio Che il sindaco ha fatto All'inizio Del Del suo discorso Lui diceva I giovani sono Una bella immagine Restituiscono una bella immagine Quello che hanno fatto i giovani Restituiscono una bella immagine Della città che siamo Io personalmente Ringrazio anche Nel senso Anch'io I miei coetanei Che si sono resi disponibili A fare volontariato In comune Quando C'era la possibilità Ed è straordinario Di come da un giorno all'altro Io Abbia Abbia visto mobilitarsi Personalmente Un gruppo di 20 persone Che si sono rese disponibili Questo è davvero Un'immagine bellissima Però Dico anche Io Ho 19 anni E sono Sicuro Sono profondamente colpito Da questa situazione Di emergenza Che ci troviamo di fronte Sicuro E so per certo Che questa cosa Segnerà il mio percorso Di crescita E rimarrà Anche nella costituzione Della mia identità So che noi giovani Noi giovani Avremo Un grande Peso Cioè dovremo pagare Un grande prezzo Di fronte a questa Emergenza Di fronte a questa crisi Perché Le conseguenze Si verranno nel futuro E nel futuro Noi Ci troveremo a gestire Gran parte Di questo mondo Io Proprio A monte di questo Mi sento Di avere una grande Responsabilità Mi rendo conto Avendo un ruolo Di avere anche Gli strumenti Per poter fare La differenza Dateci la possibilità Di fare questa differenza Perché Se lo facciamo tutti Sicuramente Si può fare meglio Rispetto a Al non farlo Ecco Quindi chiudo Questo mio intervento Con questa Riflessione Grazie Grazie consigliere Maddaloni Mi sento Solo Io di fare Prima di passare La parola Per una replica All'assessore Riva Che mi ha chiesto La parola Una piccolissimissima Sottolineatura Senza entrare Senza entrare nel merito Di nulla Ma voglio solo Tranquillizzare Tutti i consiglieri E i cittadini Che in qualsiasi Momento In qualsiasi Situazione Anche in questa situazione Il consiglio comunale Ha in pieno Le sue funzioni E tutti i consiglieri Comunali Hanno potuto esercitare E continuano a poter Esercitare La loro funzione Senza nessun Problema Ovviamente Con i limiti Del che il momento Richiede Con le modalità Che il momento richiede E quindi Il consiglio comunale Gode Della massima Assolutamente Stima di questa Amministrazione E rispetto Lo voglio sottolineare Per evitare Che magari Scorsi che sono stati Fatti qualcuno Tra i cittadini a casa Possa capire Che ci siano Stati problemi In comprensione Ecco Quale garante Dell'intero consiglio comunale Mi sentivo solo Sclusivamente Di fare questa Sottolineatura Che gode In assoluto Del massimo Rispetto Dell'amministrazione Adesso passo La parola All'assessore Riva Per una breve Replica Grazie Sì Agile Riva Allora Non rientrerò Sulla parte Degli amendamenti Che ho Già discusso Prima Volevo solamente Ripetere Perché forse Non sono stato Chiaro Sicuramente Non sono stato Chiaro Perché in particolare Sentivo il Consigliere Maddaloni Dire delle cose Che avevo già detto Precedentemente Allora Lui parla Di responsabilità Esattamente Per questo motivo Per la responsabilità Che noi portiamo Oggi Siamo qui Ad approvare Un bilaggio Certo L'ho già detto io I numeri Non saranno più Questi Molti Cambieranno Però Ogni giorno Ogni settimana Probabilmente Ci dureremo A cambiare Ad oggi Non sappiamo Se la scuola Raffirà o no Questo avrà già Un influsso Sul La mensa Sui trasporti Oggi Non sappiamo Ma è molto probabile Che le entrate Tributarie Verranno spostate Nel Limo Al 30 novembre Vuol dire Che per mettere Quel numero Dobbiamo aspettare Il primo dicembre Questa è la domanda Allora Lo strumento Ribadisco Serve Approvato Perché poi Ci saranno Le variazioni E come ho detto prima Ripeto Forse non mi sono fatto capire Avremo modo Di discutere Abbiamo discusso In commissione L'altra sera Mi avete coinvolto Abbiamo parlato Per più di un'ora Vi ho spiegato Alcune cose Abbiamo parlato Della situazione Ho anche detto Che abbiamo Siamo ben consapevoli Di quello Che questa crisi Potrebbe portare Ma dato che E l'ho detto Anche prima Non sappiamo Esattamente Quali saranno Le cadute A questo punto Direi Dal punto di vista sociale Quindi È chiaro Che le scelte Che andremo a fare Cambieranno Potranno cambiare L'ho detto In precedenza Ecco La cosa Che mi è dispiaciuta Sinceramente È sentire Dire che manchi La cultura Del coinvolgimento Ok Perché ho appena finito Di dirvi Che siamo disponibili A parlarne L'abbiamo sempre fatto E allora Dato che il consigliere Maddaloni È molto giovane Oggi Non è tema Di polemica Però Le dico Semplicemente Ma solamente Con un esempio Molto semplice Se lei va a riguardare Gli articoli Che scrivevo In minoranza Sulla viabilità leggera Sulla mia disponibilità A discutere Tutte le volte In commissione Di questo tema Le posso assicurare Che nei cinque anni precedenti Non ne abbiamo mai discusso E inoltre Cinque anni fa Quando Il sei anni fa Ormai Quando cominciata L'amministrazione Cazzamiga Ci avevano detto Passeremo Vi convolgeremo Per il passaggio Di consegne Ad oggi Ancora aspetto Quello Allora Io direi Che in questo momento Non è il momento Di fare Polemiche Sul Convolgimento Non è il coinvolgimento Vi ho detto prima Che sicuramente Questa è una situazione Straordinaria A differenza Di tutti gli altri anni Che sono stati Nel passato Avremo modo E dovremo Ridiscuterne Più volte Di questo bilancio E lo faremo Grazie Adesso La parola Al sindaco Emanuele Pozzoli Grazie Grazie Questo è quello Che faccio Quotidianamente Da un mese A fronte Delle polemiche Sordamente A fronte Delle polemiche Perché questo È il mio ruolo In questo momento Non solo Di fronte A voi Ma di fronte Alle 15.500 persone Che rappresento E per le quali Lavoro E per le quali Non dormo E per le quali Ho messo poi Anche la mia famiglia Ringrazio il consigliere Alfieri Per la sua disponibilità Che dimostra Anche con il voto In consiglio comunale So Pierangelo Che da parte tua C'è sempre stata Per quanto riguarda Poi gli altri interventi Voglio rispondere Puntualmente Perché me li sono segnati Sulla prima proposta Che è stata fatta Dal consigliere Villa Cazzaniga Maddaloni Sull'unità di crisi Vi ringrazio Perché andando A toccare Due punti Specifici Mi date la possibilità Di spiegare Ancora più In dettaglio Quello che stiamo facendo E di spiegare Ancora più In dettaglio Come stiamo operando E perché è fondamentale In questo momento Prestare una Delicatissima attenzione Sul bilancio Innanzitutto Sul confronto Con i capigruppo So che il presidente Del consiglio Ha già preso L'impegno Di strutturarlo In modo settimanale Come è stato richiesto Vi faccio presente Che il Parlamento Con la disponibilità Del bilancio Dello Stato Ha strutturato Un confronto Con le opposizioni In modo bisettimanale Invece Noi lo faremo Grazie E quindi Il presidente Cariene In modo settimanale Comunque Per quanto riguarda Le informazioni Come sapete Io le do Quasi quotidianamente A tutta la città In modo Assolutamente Trasparente L'unica cosa Che cerco di proteggere Ma perché Lo voglio difendere È la privacy Il rispetto Delle persone Che sono state colpite Da questa disgrazia Perché parlando Con loro quotidianamente Anche al telefono Sento in loro La preoccupazione Viva Di poter Tornare Ad una tranquillità Ad una quotidianità Ad una vita Normale In questo momento Il nostro ruolo È quello Di difendere Questa fascia Debola Delle popolazioni Queste persone Malate O queste persone Che sono in sorveglianza Attiva Noi lo dobbiamo Proteggere Questo è il nostro ruolo Per quanto riguarda Il bilancio È evidente Che dovremo andare A toccare Capitolo per capitolo Come dice l'assessore Riva Per andare a capire Quali saranno Le inferiori spese E quali saranno Le maggiori spese Ma sui tempi A provarlo oggi Ci consente Già da domani mattina Di poter spendere Quegli 82.000 euro Che abbiamo ricevuto Dal governo Che ripeto Sono tanti Avremmo potuto Farlo sì Con un atto di giunta Ma avremmo dovuto Comunque ratificarlo Poi in consiglio comunale Consigliere Villa E approvarlo oggi Significa Non lavorere più In esercizio provvisorio Vuol dire in dodicesimi Di fatto imbrigliati È vero Che in quella telefonata Del 13 di marzo C'era la prospettiva Di poter andare avanti Con un bilancio In dodicesimi Ma in quel O subito dopo Subito dopo Davvero subito dopo Si è scelta La strada Di approvarlo Per poter avere più libertà Ma in quel momento La confusione era tale E la preoccupazione Era tale Che avevamo addirittura Pensato a strumenti Che non sto nemmeno A delencarvi In quel momento Era impossibile Fare qualsiasi previsione Perché in quel momento Ogni nostro sforzo Al 110% Doveva essere rivolto Ad affrontare Nell'immediato La situazione Però vi ringrazio Perché mi permettete Di toccare un argomento Che davvero È fondamentale In questo momento Che sono i servizi sociali Mai Potremmo affrontare Il problema Degli oggi Con i tempi Delle nostre discussioni Politiche In questo momento Noi cosa dobbiamo fare Dobbiamo affidarci Anima e cuore E lo dico proprio a voi Che avete amministrato Bisanna fino a pochi mesi fa Perché le conoscete Perché le avete viste Perché sapete come lavorano Alle nostre ragazze Dei servizi sociali Hanno una professionalità Straordinaria Hanno una conoscenza Del nostro territorio Straordinario E dobbiamo stare Attentissimi A correre il rischio In questo momento Di affidarci a persone Che professioniste Di quel settore Non sono Perché rischieremmo Di moltiplicare Il lavoro E di perdere Quindi tempo E di deconcentrarci Da quello che è l'obiettivo Cioè dare assistenza Alla nostra popolazione Prima ho fatto un passaggio All'inizio Del mio primo intervento In cui dicevo Esattamente questo Che adesso Dobbiamo concentrarci Non tanto sulle risorse economiche Primo perché non sappiamo Quali interventi Riceveremo dal governo Secondo perché di fronte Ad una situazione Straordinaria Non possiamo pensare Di rispondere Con l'ordinarietà Del nostro bilancio E terzo Ma soprattutto questo Perché le risorse umane Disponibili Sono quello che sono E quindi Non possiamo pensare Con iniziative Iniziative di tipo privato O iniziative di tipo politico O idee nostre Che potrebbero anche essere Secondo noi buone Ma stravaganti Nella reale applicazione Andare a sconvolgere Il lavoro Che è già Credetemi Impressante Da parte di quell'ufficio Non vi dico Una bugia Se vi dico Che ho passato L'intera giornata Di sabato Al telefono Con la tettamanzi E ho finito Di telefonare con lei Soltanto Dopo la mezzanotte Non l'ho sentita Domenica Soltanto perché È morta mia nonna E per un giorno Ho voluto dedicare Il pensiero Alla mia famiglia Solamente per questo E comunque L'ho sentita In tarda serata Dopo che avevo sbollito Questo è il modo In cui stiamo lavorando Ringrazio L'assessore Fusco Che sta facendo Barbara Perdonami Ma lo dico Ha fatto la giunta Una giunta di corsa In teleconferenza Mentre stavano operando Il suo papà Questo è il tempo Che stiamo dedicando A questo tipo di lavoro Non accetterò mai Ve lo dico Mi dispiace Dirvelo con questi toni Ma non possiamo Permettercelo Di perdere tempo In infinite discussioni Su punti di vista Diverse Nel momento in cui E sono d'accordo Con il direttore generale Di Bergamo Del sindaco Cori Quando dice In questo momento Noi dobbiamo dare Risposte immediate Vi dico che la condivisione Tante volte Io non ce l'ho Né con la mia giunta Né con i miei consiglieri comunali Perché mi trovo A dover prendere Le decisioni Su due piedi Questo ci sta chiedendo Questo momento E non lo faccio A cuor leggero Non lo faccio Nemmeno perché Non voglio coinvolgere Gli altri Ma lo faccio Perché so Che è quello Che è giusto In questo momento Perché le persone Che adesso sono in ospedale Credetemi Nel nostro cittadino Ce ne sono tanti Questo ci chiedono E non è retorica Ve lo dico Col peso Che sento sul cuore Di fare questa cosa Da più di un mese Con tutte le difficoltà Che una persona normale Come me E come voi Può avere E un peso più grande Di noi Quindi sui servizi sociali Mi dispiace Ma non possiamo Io stesso Devo condividere La linea Che spesso Mi viene fornita Da chi Di professione Fa questo lavoro E ho visto Con i miei occhi Che interventi Di tipo privato Hanno in realtà Aggravato Il peso Il lavoro Che quell'ufficio Deve sostenere Mentre quell'ufficio Deve rispondere Ad esigenze Che credetemi Sono del tutto nuove Emergenti La fascia dei bisogni Della nostra città Si è accresciuta Non è diminuita E si è accresciuta Nei confronti Di fasce di popolazione Di famiglie Che non conoscevamo Alle quali Noi dobbiamo dare Una risposta E vi riporto Una parola Una espressione Della nostra Responsabile Dei servizi sociali Che abbiamo già condiviso Perché non l'avete cambiata Quando avete amministrato E io non intendo Mai cambiarla Finché amministrerò Che dice Noi in questo momento Dobbiamo dare Una risposta A tutti Soprattutto a quelli Che non conosciamo Ed è quello Credetemi Che sto facendo E per finire Sul coinvolgimento Mi dispiace dirlo Ma avete tutti Il mio numero di telefono E il mio cellulare Da parte vostra In questi giorni In quei giorni Non è mai squillato Ciò nonostante Perché capisco Il momento Capisco la difficoltà Di rimanere fermi Quando probabilmente Avremmo la voglia Tutti noi Di intervenire Io sono sicuro Che questo È il vostro approccio Sono sicuro Che è il desiderio vostro Quello di dare Il 110% Per poter essere presenti Accolgo la richiesta Di un maggior coinvolgimento L'accolgo Ci mancherebbe altro Con lo spirito propositivo Con lo spirito propositivo Questo sicuramente sì Poi io non sono precluso a niente Anche se non sembra Dalla mia appartenenza politica Come ci vedete voi Fatemi fare una battuta Però non sono veramente Precluso a niente Però su questo argomento Dobbiamo veramente Come quando Accettiamo le prescrizioni Che ci vengono richieste dal governo Sentita la comunità scientifica Allo stesso modo Dobbiamo attenerci A quanto ci viene indicato Dai nostri servizi sociali E che viene condiviso con loro Perché la partita In questo momento È troppo Troppo delicata E un piccolo errore Potrebbe causare Uno tsunami Tra pochi mesi Perché Che è prevedibile Che non passerà In poco tempo Questo momento Arrivando invece Agli aspetti più legati A quello che stiamo facendo Che è il bilancio Sull'accordo con gli altri comuni Per quanto riguarda i cinque comuni Vi devo dire Che il dialogo Fino a che non è successo tutto questo Non si è interrotto C'erano alcune discussioni in corso C'era anche un progetto nuovo Da vedere Al proposto dal sindaco di Casatenauvo Al quale avevo A delito di buon grado D'accordo anche Per un'idea di sviluppo Con il sindaco di Triugio Che anzi saluto Perché forse non lo sapete Ma lui è uno di quelli Che il virus l'ha battuto Nel senso che è stato in ospedale E poi è tornato a casa Quindi penso che da tutti noi Possa arrivare calorosamente Un saluto nei suoi confronti Quindi non si è mai interrotto Se non ha riflessioni nel bilancio Perché non è previsto Un intervento di tipo economico Come non era imprevisto In quello precedente Se non ad esempio Soltanto nelle 15.000 euro Dello studio Fatto quel primo passo Bisogna vedere Quali applicazioni di tipo concreto ha Vi posso dire però Che non si vede in questo bilancio Perché non ha una ricaduta economica Che invece di discorsi Aperti con altri comuni Per ragionare di più insieme Questi ce ne sono moltissimi Soprattutto con i nostri comuni confinanti Con quell'area che viene riconosciuta Anche banalmente dai giornali Come il besanese Cioè vale a dire Renati, Briosco e Bedugio Con il quale condividiamo molte cose Soprattutto il territorio Con loro si sta ragionando Su più piani e su più livelli In modo aggregato Un esempio è La disponibilità dei tre sindaci Ad indicarmi Il dottor Coscarelli Di questa sera Perché li sento veramente Li sento veramente Quotidianamente E Ci sono diverse Diversi discorsi aperti Sia in modo aggregato Sia Con ognuno Singolarmente Tra i vari comuni Per quanto riguarda L'illuminazione Mi dispiace Che proprio a causa Del coronavirus Non posso dirvi Che quanto era già stato previsto Quanto la CUC Ci aveva già comunicato Cioè che il 20 aprile Noi saremmo andati A gara Per rifare Tutti i lampioni Della nostra città L'uscita Pur concordata E devo dire Discussa ampiamente Anche col sindaco Corti Capofila Del progetto È stata È stata Strutturata E studiata In modo che potessimo Accelerare Dal punto di vista Della forza contrattuale È vero Sono d'accordo Che probabilmente Ne abbiamo meno Ad andare da soli Ma probabilmente Ci esponiamo anche Ad una possibilità Di ricorso Banalmente Genova Il comune di Genova Aveva fatto una gara Molto simile al nostro Di un porto simile al nostro È stata assegnata Il secondo Il secondo partecipante Al concorso Ha fatto ricorso Bloccando tutto Probabilmente Restando da soli Ci esponiamo In modo minore Rispetto Al rischio Dei ricorsi Quindi bisogna Soppesare tutto Nelle decisioni E devo dire Ringrazio l'assessore Casiraghi Per quel lavoro Di quei giorni Così abbiamo fatto Per quanto riguarda Villa Greppi Devo dirvi Ripeto Quello che ho già detto In consiglio comunale Abbiamo ritenuto Che A fronte Dell'entità economica E della produzione Culturale prodotta E dei trasporti Serviti Non c'è Alcuna Corresponsione Dal punto di vista Economico Tra l'altro Dopo la lettera Che ho ricevuto Perché sono fatto così Lo sapete Ho voluto andare A controllare Effettivamente Quanto fossero Gli insegnanti Che partecipano Ai corsi Tenuti da Villa Greppe I corsi di formazione Ho scoperto Che sono più o meno In media 4 all'anno Quindi Anche da quel punto di vista Lì Che non conoscevo Ma che ho voluto Approfondire Ho avuto modo Di trovare Conferma Della bontà Della nostra decisione Per quanto riguarda Poi Il collegamento Con Casate Novo Anche qui Ritorniamo Su una scelta Già presa A maggior ragione Della possibilità Che ha indicato Il consigliere Villa Di utilizzare Gli oneri Per le spese correnti Per far fronte L'emergenza Non ha senso Secondo me Impegnarli Per fare un'opera Tra l'altro In più Su Casate Novo Vi voglio dire Che Oppure Come è stato proposto Utilizzare Un'unità di crisi Credetemi Che il tempo In questi giorni Proprio manca Per discutere Se rimandare Quest'opera Negli anni Procedenti Negli anni Successivi Mi tocca Poi dirvi Perché abito lì Che per andare Da Zoccorino A Villa Raverio Non c'è Un collegamento Per andare Da Valle Guidino Al mercato Di Besana Non c'è Un collegamento E abbiamo ritenuto Di preoccuparci Prima di collegare In modo interno La nostra città Ad esempio D'hanno mandato Di tenere In particolare modo In considerazione Questa cosa Allo studio PIM Che sta redigendo Il primo PGTU Nella storia Di Besana Cioè il piano urbano Del traffico Così come stiamo Redigendo Il primo piano cemiteriale Nella storia di Besana E drammaticamente Questa cosa Si vede Il totale Abbandono Il totale Abbandono Negli anni scorsi Dei sei cimiteri A se stessi In questo momento Il momento Ci sta costando Drammaticamente Sul piano umano Ve lo dico Perché è difficile Spiegare queste difficoltà Alle famiglie Della gente Che muore Dire che non abbiamo Il posto Dire che non abbiamo Il posto Nei cimiteri Infine Sugli enti locali Per la pace L'ho già detto L'abbiamo detto Tutti pubblicamente È una scelta politica Criticateci Quanto volete No abbiamo scelto Di non appartenere Ad un'organizzazione Che non da Da quale Non riusciamo A riconoscere Un obiettivo Pragmatico Ma è Sostanzialmente Ideologico Basta vedere Tra l'altro La composizione politica Dei sindaci Che partecipano Alla marcia della pace Contra la quale Non ho niente Ci mancherebbe altro Sullo slogan Invece Di una besana Che vuole fare Da sola Io lo condivido Parzialmente Perché Per me vale più Una parte Di questa affermazione Besana vuole fare Da sola insieme Poi si vedrà Ma besana vuole fare Vuole ricominciare a fare Vuole ricominciare A guardare avanti A guardare lontano Ed è questo Che sta dicendo La nostra Il nostro bilancio Tra l'altro Poi quando si dice Si rischia di dire Prima la mia famiglia Questa è una Questa è un'argomentazione Che a me piace Voglio rubarvi 5 minuti Anche per staccarle Un attimo La nostra mente Da questo momento Plumbeo e difficile Che sopportiamo Dire prima besana Vuol dire Si dire prima La mia famiglia Ma dire prima La mia famiglia Credetemi È quello Che ognuno di noi Con tanto buonsenso Fa tutti i giorni Andando a lavorare Guadagnando uno stipendio Risparmiando qualcosa Per dare un futuro A propri figli È quello Che ognuno di noi Con un po' di grano salis Fa quotidianamente E noi Applichiamo Quel principio Che è lo stesso Che il legislatore Ci riconosce Cioè quello Del buon padre Di famiglia Nei confronti Dell'amministrazione Della nostra città Poi Ecco Un argomento Che mi tocca Particolarmente Quello sul personale Mi voglio fare Due esempi Concreti Concretissimi Se noi Non avessimo avuto Quei due ragazzi Che hanno avuto Credetemi Un battesimo del fuoco All'interno Della polizia locale Avremmo fatto Fatica A strutturare Le pattuglie quotidiane Per fare Quel tipo Di servizio Che oggi Stiamo facendo Perché ci viene richiesto Ad esempio La polizia stradale Questo vuol dire Ridefinire La pianta organica Altro esempio Che mi sta particolarmente A cuore La situazione Della nostra Anagrafe Oltre Ad Assumere Non vuol dire Soltanto Destinare Un maggiore intervento Alla spesa corrente Significa Organizzare Perché non è stato Accettabile Che il responsabile Della Anagrafe Sia andato in pensione Per tre anni Non è stato sostituito Ma non sono io A dirlo Ce l'ha detto La prefettura Quando per la prima volta È venuta a fare Un'ispezione Nel 2017 Ha riscontrato Degli elementi negativi Che puntualmente Ha ritrovato Nel 2019 Perché Il personale Era quello che era Perché sul software Non è stato fatto Nessun intervento E quindi Andare a assumere Come abbiamo fatto noi E arriverà Tra pochi giorni Un nuovo responsabile In quell'ufficio Vuol dire Riorganizzare Quell'ufficio Vuol dire Banalmente Andare a recuperare L'arretrato Che si Protraeva Dal 2017 C'erano pratiche A drammaticamente Accumulate Che Non avrebbero Consentito A persone di votare In occasione Del referendum Abbiamo dovuto correre Ho chiesto Un sacrificio straordinario Ai nostri dipendenti Per poterci portare In pari Poi so Che ci sono state Delle difficoltà Come le due Gravidanze Certo che lo so Ma ci sono stati Anche degli errori Di valutazione Come la mancata Assunzione Di un nuovo responsabile Abbiamo posto Riparo noi Ed è questo Che si deve leggere Dentro Le assunzioni Un altro esempio Concreto È la persona Che tra l'altro Con il vostro emendamento Si prevede di stralciare Perché quella persona Andrà a sedersi All'interno Dell'ufficio cimiteriale Ristrutturato Che si trova Tra il suo piano E credetemi In questi giorni Anche dargli un po' Di sbocco psicologico Con un ricambio A quelle due persone Credetemi Che avrebbe fatto bene Perché non voglio Darvi il numero Perché non voglio Preoccupare nessuno Ma anche noi Come altre città Stiamo registrando Un incremento Dei decessi Mentre i dati Covid Ci dicono altro E dobbiamo tenere A mente Anche questi aspetti Che non sono solamente Quantitativi Ma sono qualitativi Infatti avete visto Che abbiamo anche Spostato delle persone Delle persone Che prima erano In segretaria Sono finite addirittura I lavori pubblici E viceversa Andando ad analizzare Le professionalità Di ognuno Per metterle Nelle condizioni Di esprimere Appieno Le proprie potenzialità Per quanto riguarda La consulta giovani Poi Io sono Assolutamente D'accordo Con quanto Dice Alcideriva Guardate il nostro Consiglio comunale I giovani Non devono essere Contingentati O a compartimenti stagni Non bisogna dirgli Avete 5 mila euro Da spendere Avete il bilancio Avete la città Nelle vostre mani E vi posso dire Che quello che stanno facendo In questi giorni I miei ragazzi E io lo voglio dire pubblicamente È straordinario Perché hanno messo in piedi Anche dei sistemi informatici Che prima non c'erano Poi Sulle indennità Sulle indennità Come Allora Nell'intervento pubblico Mi è stato riportato Anche da un vostro candidato Sinceramente Né io Né l'assessore Riva Né altri Perché poi mi sono confrontato Con loro E soprattutto La mia memoria Non mi confermano Che io abbia sostenuto Nenuno Confronto pubblico Che non avrei Aumentato L'indenità Ho sempre condiviso Con Sergio Che fosse In modo anomalo Basta L'indenità Del sindaco di Besana E anche degli assessori Del presidente del consiglio E dei consiglieri Lo si riconosce Nella tabella Che ha pubblicato Il giornale di Karate Qualche settimana fa Quando Ha dimostrato Che Oggettivamente Sotto la media Continua a ritenere Che sia Giusto Non perché a 200 euro Parliamoci chiaro Mi cambiano la vita Ma perché penso Che sia giusto Perché altrimenti Consenteremo solamente A chi ha raggiunto L'età pensionabile O a chi Ha disponibilità di tempo Perché sul lavoro Gli lo consente O a chi Economicamente Può permettersi Di fare il sindaco Besana Ma adesso Al di là di questo Uno non lo fa Certo per i soldi E questo periodo Secondo me Lo sta dimostrando Penso semplicemente Sia giusto E avrei tolto Dall'imbarazzo Chi Dopo di me Si sarebbe trovato Con lo stesso problema Ho preso Col coraggio Questa decisione Che quest'anno Perché sono arrivato Invece A destinare Quest'importo Sul Sul piano Sul fondo Di emergenza Covid Innanzitutto Perché erano I soldi Immediatamente Disponibili E il secondo Luogo Perché erano Sia questi Che quelli Del secondo Emendamento Che prendono 5 mila euro Della cultura E erano Direttamente imputabili A me E' chiaro Che la cultura Non potrà avere Quel piano Che avevamo Già presentato Viva l'estate Un piano Che ci avrebbe Accompagnato Dalla fine Della scuola Alla partenza Per le vacanze Dando l'opportunità Ai besanesi Di uscire Di uscire Tutti i weekend La sera Per trovare Sempre Un evento E' evidente Che quest'anno Non potremo farlo Per ragioni Meramente sanitarie Ma E quindi Abbiamo recuperato I soldi Da lì Ma l'idea Era quella Di lasciare Intatti Invece Gli altri Capitoli E qui Lo dico Al consigliere Maddaloni Ma a tutti In realtà Quando mi dice Che non abbiamo Dato una prospettiva Alla città Il messaggio Forte Che dobbiamo Mandare Questa sera È che noi Affrontiamo L'emergenza Ma non Perdiamo La ferma Volontà Di andare avanti Di dare Una prospettiva Invece Alla nostra città Di farci Di prendere Sulle nostre spalle Le nostre scelte Le nostre decisioni Poi è evidente Nessuno di noi Saprà Cosa ci darà Il governo Quanto riusciremo Effettivamente A incassare L'anno prossimo Sulle tasse Non lo sappiamo Non lo sappiamo Ma perché c'è Una indicazione politica Ormai è tutto saltato L'indicazione politica Qual è? È questa Dobbiamo Comunque Ritornare alla vita Vado avanti Con i punti Che mi sono stati Ah Sull'aula Dello studio biblioteca Mi permette una battuta Visto che siamo comunque In consiglio comunale A fronte di un milione di euro Speso in Villa Filippini Negli anni scorsi In modo secondo me Del tutto disponibile Tetto a parte Non capisco come Non sia stato Trovato il modo Di spendere 70.000 Per fare una sala Invece per quanto riguarda Il consigliere Villa Su un'argomentazione Che ho già sentito C'è quella Sull'approvazione Del consiglio Sul bilancio Consolidato Non il bilancio Perdonate Mi sono un po' confuso Sul bilancio consuntivo Dell'anno scorso Che ci permette Di utilizzare l'avanzo Questo Può sempre avvenire Anche nelle prossime settimane Ma prima Era più urgente Non lavorare più In dodicesimi Piuttosto che avere Quelle somme Che comunque Rispetto all'anno scorso Non è più come negli anni passati L'avanzo dell'anno scorso È stato di appena 70.000 euro Che sarà comunque disponibile Sull'entità del fondo Adesso è inutile discutere Perché non sappiamo Di quanto avremo bisogno Bisogna stare attenti Come nelle risorse umane Dobbiamo stare attenti A calibrare Le risorse economiche Quindi Quei soldi Saranno comunque disponibili Nelle prossime settimane Appena approveremo Il bilancio Consuntivo Non è che abbiamo rinunciato Però l'approvazione Del bilancio Di questa sera Ci permette anche Di utilizzare Quegli 80.000 euro Che il governo Ci ha dato Già da domani mattina Gli oneri È evidente Che saranno sempre disponibili Quelli che riusciremo Di incassare Per le spese correnti O per far fronte All'emergenza Però anche in questo caso Torno a ripetere Non possiamo pensare Di affrontare Una situazione Straordinaria Nell'ordinarietà Del nostro bilancio So che è stato presentato Un ammendamento Al Senato Che consentirebbe Ai comuni Di utilizzare Il fondo Crediti Dubbi Esigibilità Che per noi Quota 600.000 euro Ecco Questo è un modo Straordinario Di affrontare L'emergenza Perché Quei soldi Ci sono Sarebbero Eventualmente Immediatamente Disponibili E sono Sicuramente Superiori A tutti i fondi Che possiamo Prevedere Immaginare Quello potrebbe Essere un fondo Quello sì Ma non possiamo Pensare di trovare Risorse ordinarie All'interno Dell'ordinarietà Del nostro bilancio Risorse straordinarie Scusate All'interno Dell'ordinarietà Del nostro bilancio Sul disallineamento Delle esigenze Tra le esigenze Della città E il nostro bilancio Io non voglio Allora Quello che vi sto dicendo L'aver creato Un fondo La disponibilità Di 82 mila euro Già nell'immediato Ci danno una risposta Vi devo dire Che tra l'altro Sono arrivati I contributi Di privati Cittadini Proprio come Bonifici Come donazioni Che andranno Ad aumentare Questo fondo Ma La cosa che più Mi interessa È l'allineamento Di queste nostre Intenzioni Con il chiaro E netto risultato Della consultazione Politica ed elettorale Che abbiamo appena avuto Noi dobbiamo Comunque Pensare alla vita Dobbiamo comunque Tracciare una strada Per la nostra città Ed è quella Che è scritta Nel DUP Ed è per questo Che ringrazio Il nostro ragioniere Capo Mario Lonzoni Per essere riuscito A tradurre tutto questo Un grande lavoro Svolto anche sabato La domenica L'ho visto io Perché ero qua con lui Nel bilancio Grazie a tutti I responsabili Di servizio Che hanno partecipato Nella stesura Del DUP Perché ovviamente Questo è un lavoro Di concerto Tra la parte politica E la parte tecnica Perché loro Devono riuscire A tradurre in tecnico Quello che è Il nostro Approccio politico E sul Concludo Sul 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 fatto di essere stati colpiti In modo negativo Nessuno più di me Nessuno più della mia giunta Nessuno più dei dipendenti E dei volontari Della nostra città È stato colpito In modo negativo Da questa sciagura Se non chi ha perso un caro Per colpa di questa sciagura Tra i quali Purtroppo mi scrivo anch'io Non volevo dirvelo Però Questa è la mia condizione Non è questo il momento Della richiesta Secondo me È il momento Della disponibilità Che comunque Intravedo Nelle vostre parole E comunque Riconosco E comunque Io credo Sono convintissimo Che la mia Maggioranza Le persone che mi hanno Sostenuto finora E hanno sostenuto Tutti noi in questo sforzo E soprattutto Una persona del Presidente Consiglio Roberta Carena Avrete modo Di trovare Settimanalmente Come da voi È stato richiesto Per il last stop Chiedo alla maggioranza Di approvare Questo bilancio Grazie Signor Sindaco Adesso aveva la parola Il consigliere Romano Flaviano Un momento solo Devo fare Un avviso Al segretario Che è uscito Andato via Il consigliere Gatti Vittorio Quindi da questo Momento in poi È assente Grazie Romano Capogruppo Lega Volevo Mi sentite? Si sente? Si sentiamo La sentiamo Romano La sentiamo Volevo Innanzitutto Ringraziare Il sindaco Per le belle parole Che mi ha rivolto Prima E vi devo dire Comunque Che dalla mia Postazione Cosiddetta Telefonica Sanitaria Anche stamattina C'è un Una leggera Flessione Della frequenza Delle chiamate E questo Secondo me È un segnale Che va interpretato Anche localmente Nel nostro paese Positivamente Ringrazio Il dottor Coscarelli Per la Sua cortese Partecipazione Perché Con la sua presenza Facciamo un consiglio Comunale Che altrimenti Non avremmo fatto Per cui Veramente Grazie Venendo Al DUP Noi siamo In linea Con la relazione Dell'assessore Riva Perché L'approvazione Che faremo Fra poco Permetterà Di Non lavorare Più Di non lavorare In dodicesimi Come ci ha proprio Espressamente Richiesto Il responsabile Degli uffici Le ragioni Erronzoni E noi Condividiamo Questa sua Richiesta Però Il documento Pur nell'emergenza Della situazione Noi lo approviamo Perché secondo noi Il documento politico Non cambia Non deve cambiare Dell'impostazione Cioè Quello che noi vogliamo fare Rimane Cambieranno Le cifre Ma non Le linee guida Politiche Del DUP Cambieranno Capitolo per capitolo Durante l'anno Le cifre Che si presenteranno Le scelte Che dovremo Venire a fare Non mi voglio dilungare Vengo Alla Dichiarazione Di voto Sul riguardo Appunto Al documento Unico Di programmazione E al bilancio Finanziario Di previsione Noi siamo noi E noi voteremo A strafavore Grazie Grazie consigliere Romano Allora Io adesso Passo A proporre La votazione Allora adesso Un attimo Di calma Che cerchiamo Che devo cercare In più bene Di concordarmi Con il segretario Volevo chiedere una cosa Se i consiglieri Che hanno fatto Dichiarazione di voto Volevano poi Consegnare una documentazione Dallegare al verbale O se questa cosa La bypassano Io non so Come vi comportate Solitamente Visto che qualcuno L'inceva In questo caso Cosa dobbiamo fare Segretario Se me lo mandate Anche via email O se lo consegnate Direttamente In prefettura Quello Lo alleghiamo Alla Prefettura Scusate Io rispondo Alla prefettura In segreteria Lo possiamo Allegare poi Alla Se lo mandiamo Con PEC Va bene Sì Perfetto Perfetto Grazie Grazie Presidente Scusi Scusi Due parole Non sul bilancio Sul discorso Della collaborazione Se possibile Vorrei farle Va bene Proprio Brevissimissimissimissimissimissimo Mi scusi Il consigliere Cazzania No Diretti No Diretti non funziona così gli accordi erano altri ora parliamo tutti scusate lascio proprio una parola che sia una senza polemica al consigliere cazzaniga ma proprio un secondo va bene grazie mi rifaccio all'ultimo passaggio non devo andare non devo andare via volevo legarmi alle ultime parole del sindaco che ha detto che ha colto una disponibilità secondo me ha colto bene faccio un esempio se parliamo dei servizi sociali nessuno verrà a interrompere lavori a fare queste parole dico signor sindaco ci mettiamo a disposizione come operai a tua disposizione facciamo gli operai non vogliamo venire a fare gli ingegneri perché in questo momento spetta lei signor sindaco noi siamo delle braccia a sua disposizione se vuole cogliere l'occasione le prende l'esempio classico che ho fatto nell'intervento se fosse stata un'approvazione tecnica come lo è di fatto di questo bilancio la facevamo almeno due settimane prima allora adesso lascio la replica un secondo anche al sindaco visto che comunque ha dato non solo una parte di disponibilità ma ha toccato ancora l'argomento bilancio prego sindaco ma velocissimo grazie grazie presidente no sui allora sì va bene grazie riconosco come ho detto prima questa disponibilità che è stata poi chiarita sui tempi dell'approvazione del bilancio è di peso anche dall'organizzazione di questo sistema perché sapete che conseguente ad un decreto pure Italia che ci ha richiesto alcune cose per cui siamo arrivati anche noi prima possibile per cui su questo e sareste stati ovviamente contattati come ad esempio avete richiesto di poter allargare la capigruppo alla commissione bilancio così è stata quindi così è stato quindi sui tempi avremmo potuto forse arrivare prima ma sul coinvolgimento anche sul bilancio io penso che sia stato rispettato anche allargando la capigruppo ad altri perché potessero oltre la commissione bilancio che era già stata garantita poter intervenire quindi comunque raccolgo ancora la disponibilità alla collaborazione allora adesso passiamo alle votazioni quindi mi volevo coordinare col segretario per agire correttamente allora prima di tutto poi sul bilancio votazione sul documento unico di programmazione 2020-2022 faccio l'appello come prima e come prima quando vi chiamo aprite il microfono e date la vostra il vostro voto quindi carena roberta favorevole brusca jean davide favorevole corbetta alessandro favorevole duca giovanni favorevole riva paola patrizia favorevole romano flaviano favorevole cacciatori alessandro non si è sentito bene se può ripetere consigliere cacciatore grazie favorevole merazzi gianluca favorevole tolotta massimiliano favorevole pozzoli emanuele non mi si accende il microfono ok si pozzoli emanuele era acceso prima pozzoli favorevole favorevole grazie alfieri pierangelo a stenuto cazzaniga sergio gianni contrario cattaneo andrea contrario maddaloni stefano ok contrario tetta manzi maria giovanna contrario villa fabrizio contrario chiedo al segretario di riepilogare carina roberta favorevole pozzoli emanuele favorevole corbetta alessandro favorevole romano flaviano favorevole riva paola patrizia favorevole bruscagni davide favorevole duca giovanni favorevole cacciatori alessandro favorevole tolotta massimiliano favorevole merazzi gianluca favorevole quindi sono dieci favorevoli poi abbiamo contrari cazzaniga sergio giovanni tetta manzi maria giovanna giuseppina villa fabrizio cattaneo andrea e maddaloni stefano quindi sono cinque contrari e astenuto al fieri piero angelo un astenuto benissimo adesso votiamo l'immediata eseguibilità carena roberta favorevole brusca g in davide favorevole corbetta alessandro favorevole favorevole duca giovanni favorevole riva paola favorevole romano flaviano favorevole cacciatori alessandro favorevole merazzi gianluca favorevole olotta massimiliano favorevole favorevole cozzoli emanuele favorevole al fieri piero angelo favorevole cazzaniga sergio contrario cattaneo andrea astenuto maddaloni stefano astenuto tetta manzi maria giovanna astenuta villa fabrizio bene quindi se vuole riepilogare anche immediate eseguibilità eseguibilità abbiamo favorevoli carena roberta pozzoli manuele corbetta alessandro romano flaviano riva paola fabrizio patrizia brusca g in davide duca giovanni cacciatori alessandro tolotta massimiliano merazzi gianluca e al fieri piero angelo quindi sono 11 abbiamo contrari cazzaniga sergio gianni quindi uno e abbiamo astenuti tetta manzi maria giovanna giuseppina villa fabrizio cattaneo andrea e mandaloni stefano quindi quattro bene allora adesso dobbiamo passare alla votazione del bilancio finanziario di previsione 2020 2022 allora qui volevo capire come procedere per la votazione allora votiamo gli emendamenti ammessi e singolarmente oppure dobbiamo fare una votazione unica io voterei singolarmente gli emendamenti ammessi va bene sì io così a meno che non avete qualcosa da modificare tutti insieme all'unanimità e a quel punto decidete come ritenete opportuno altrimenti quanti sono gli emendamenti ammessi in discussione sono due emendamenti ammessi più parzialmente un terzo quindi su tre tre sono gli emendamenti no assessore riva mi corregga che no perché in realtà ci sono i due del sindaco di fare favorevolmente uno che accogliamo parzialmente poi ci sono due non procedibili quindi su quelli non si vota e poi ci sono tre dobbiamo pure votare e noi non li accogliamo quindi sono sostanzialmente sei emendamenti quattro sì sostanzialmente sì quello parzialmente decidete come operare perché o si vota a favore o contro o insieme decidete di presentarne uno al momento si respinge quello che ha raccolto parzialmente e si presenta la parte accoglibile nel parziale o decidete in un'altra maniera se siete all'unanimità fate quello che ritenete opportuno che vi disciplina all'unanimità presidente di città lei per semplificare teniamolo insieme quello del sindaco con quello parzialmente con me nella delibera giusto? nella delibera lo teniamo insieme l'unica cosa è che devi chiarirci Roberta man mano quali sono quelli che aggiungiamo perché alcuni non sono nella delibera capito? sì ok va bene dovresti spiegarci cosa stiamo votando in quel momento lì questo per non complicare potremmo tenerlo uguale sì va bene sono d'accordo ok allora cominciamo con la votazione degli emendamenti numero 1 e 2 proposti dal sindaco e parzialmente l'emendamento numero 1 proposto dai capigruppo del partito democratico besana forse Roberta scusa se ti interrompo ma seguiamo la delibera che ci avete mandato la prima votazione dovrebbe essere di recepire le applicute dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici per l'anno 2020 leggi proprio la delibera perché sennò noi non ci troviamo più rispetto ai documenti che abbiamo ricevuto segretario lei cosa ne dice? la delibera di giunta? no noi abbiamo la delibera del consiglio con una delibera di approvazione sì cioè approvazione del bilancio finanziario di previsione 2020-22 la delibera? sì ok devo andare a prenderlo ci sono tutte le premesse poi quando andiamo alle votazioni ci da quattro votazioni da fare in realtà anche a noi sembravano meno di quelle necessarie perché mancavano alcuni emendamenti qua dentro cioè se lei va adesso non ho le pagine purtroppo io ne ho una vecchia che mi dà come voti solamente allora delibera di approvare gli emendamenti 1 e 2 non so se questo si riferisce proposti dal sindaco e parzialmente l'emendamento numero 1 perfetto prima di questa però nella delibera c'è una precedente votazione di recepire le aliquote che non sono queste però non sono le aliquote di cui ha parlato l'assessore prima eh però queste aliquote in realtà scusatemi ho parlato anche con Roni lui dice questo è solo comunicazione per la costruzione del bilancio eh no perché vedo che c'è su no è vero lui l'ha scritto ma per dirvi nel bilancio abbiamo tenuto presente questa questa cosa qua poi in realtà le aliquote devono essere approvate ad oggi entro il 30 giugno se non sbaglio poi ah niente allora cambia quindi in realtà eh Ronzoni diceva non non dobbiamo andare a votarle perché in realtà era solamente una situazione per il bilancio questo è quello che è per cui passiamo da un punto di vista questa vera diversa votiavole eh no no va benissimo ma per me non c'è problema scusate una cosa ma non dobbiamo recepire non ci assegniamo anche la delibera parlava di recepire quelle aliquote non dobbiamo recepirle obbligatoriamente per il DUP la proposta di delibera che ci è arrivata legata a tutti i documenti di approvazione del bilancio aveva quattro delibere la prima parlava di recepire le aliquote e le tariffe per il DUP se non è necessario non la deliberiamo però così diceva la delibera io l'ho vista stamattina quando me l'hanno girata io ricepire eh qualcosa dopo che si è approvato un DUP sono un po' in difficoltà nel senso che allora gliela leggo c'è scritto eh la prima delibera sarebbe con votazione eccetera eccetera delibera di ricepire le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi pubblici per l'anno 2020 come determinati dalle deliberazioni del Consiglio Comunale della Giunta già richiamate nelle premesse del presente provvedimento deliberativo le quali sono inserite nel fascicolo allegati che forma parte integrante e inscindibile del lato stesso se poi non è necessario ricepire qualcosa che è già stato determinato da una delibera del Consiglio Comunale sono difficoltà non riesco a capire allora io ho parlato adesso con Ronzoni sì ho parlato con Ronzoni e lui mi dice che secondo lui non era necessario però se vogliamo possiamo comunque votarle così ci togliamo ogni dubbio e le abbiamo questa è la cosa migliore effettivamente perché ricepiamo una deliberazione del Consiglio Comunale noi l'abbiamo già deliberata o no Alcide proprio nello spirito di collaborazione di cui parlavamo ti anticipo che noi su questa ci asteniamo addirittura quindi non c'è problema non era questo il problema è che lui da punto di vista dell'epoca aveva detto che non ti era necessario adesso gli ho parlato e sono alzato per parlarlo però è meglio farlo facciamolo ecco questo volevo dire infatti per me va bene ma anche sugli emendamenti se dovesse servire il primo del sindaco il secondo del sindaco e votare sul vostro emendamento originario poi proporne uno che è quello che noi andremmo a votare del vostro cioè proporre un nuovo emendamento solamente per i 1500 euro sul capitolo che voi ci avete indicato al quale noi voteremo positivamente possiamo anche farlo così anche per il segretario che mi sembrava il segretario per maggiore chiarezza cioè lasciare gli originari del sindaco prendere il vostro e votarlo negativamente nella totalità presentarne uno nuovo che sarebbe l'uno bis vostro per 1500 euro votarlo positivamente non votare il secondo e il terzo perché non sono procedibili e votare il quarto, il quinto e il sesto questo potrebbe essere il segretario di Univa e direi che... un anno quando saremo chiamati a guardare perché sicuramente quando sarà posto andremo a riprendercela ah qui c'è una virgola sbagliata invece qui se si prendiamo queste cose andiamo via lisci come l'olio l'anno prossimo facciamolo, facciamolo non è un problema va bene allora con calma quindi procediamo a votare il punto 1 che dice di recepire le aliquote, dei tributi, delle tariffe e dei servizi pubblici ok? votiamo questa parte quindi chi è favorevole? arena Roberta favorevole Brusca Gin Davide favorevole Corbetta Alessandro favorevole Duca Giovanni favorevole Riva Paola Patrizia favorevole Romano Flaviano favorevole Cacciatori Alessandro favorevole Merazzi Gianluca favorevole Tolotta Massimiliano favorevole Pozzoli Emanuele favorevole Alfieri Piero Angelo Astenuto Cazzaniga Sergio Gianni Astenuto Cattaneo Andrea Astenuto Maddaloni Stefano Astenuto Tettamanzi Maria Giovanna Astenuta Villa Fabrizio Astenuto Astenuto Bene Eh L'immediata eseguibilità la votiamo alla fine per tutto o dobbiamo fare per ogni voce? Alla fine, alla fine Roberta, alla fine di tutto Perfetto, benissimo Poi Andiamo a votare Emendamenti 1 e 2 proposti dal sindaco Ci siamo? Quindi 1 e 2 insieme? 1 e 2 insieme proposti dal sindaco La proposta è di accogliere favorevolmente gli emendamenti 1 e 2, questa è la domanda corretta Quinti Arena Roberta Favorevole Ruzio Favorevole Favorevole Ruzio Andro Favorevole Favorevole Duca Giovanni Favorevole Riva Paola Patrizia Favorevole Favorevole Romano Flaviano Favorevole Cacciatori Alessandro Favorevole Merazzi Gianluca Favorevole Tolotta Massimiliano Favorevole Pozzoli Emanuele Favorevole Alfieri Piero Angelo Astenuto Cazzaniga Sergio Gianni Contrario Cattaneo Andrea Contrario Maddaloni Stefano Contrario Etta Manzi Maria Giovanna Contrario Villa Fabrizio Contrario Contrario Ok Revolver 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 Presidente Qui abbiamo 10 voti favorevoli su questi primi due emendamenti Sì E abbiamo un'astenuto e cinque contrari Ok Mentre Prima non abbiamo fatto l'elenco di quello della votazione precedente abbiamo i 10 favorevoli e sei astenuti Benissimo grazie Ok Allora adesso chiedo l'UMI sul famoso emendamento numero uno proposto dai capigruppo del partito democratico Besana for future Besana attiva quindi la proposta è di ehm votarlo per raccogliere questo emendamento votarlo nella sua totalità come diceva il segretario poi ripresentarne un altro consolamente però il momento è semplicemente il capitolo quello che riguarda ehm il mille e cinquecento euro con indicazione dei capitoli e a quello ehm diciamo di votare di accogliere quell'emendamento quindi non è altro che riproporre quello che avevamo già detto parzialmente nella totalità cioè due cose totalmente uno no parzialmente ma riscritto solo per la parte parziale accogliendolo totalmente e lo facciamo tutti e due in questo momento se qualcuno è importante chiedere che sia qualcuno eh contrario eventualmente se qualcuno non va bene questa modalità ok siete tutti d'accordo su questa modalità quindi di recepire negativamente votare contro all'intero emendamento e poi eh votare favorevolmente alla sua parziale eh approvazione e Roberta non è la votazione che conta è la metodologia cioè in realtà eh certo certo no certo giusto segretario mi dia una conferma giusto 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 visto che dice il passaggio migliore ecco questo intendiamo come spirito di collaborazione ovviamente ognuno vota il suo prego va bene allora scusate ma eh insomma niente come non detto allora ehm quindi procediamo eh a votare la proposta è di ehm non recepire l'emendamento numero uno eh presentato dai capigruppo partito democratico besana for future besana attiva quindi la domanda è quella di non eh accettare è un emendamento presidente votiamo l'emendamento non faccia alla referendum sennò qui sballiamo questo è un emendamento lo votiamo o non lo votiamo ok va bene allora ok perfetto allora Carena Roberta contrario poi Brusca Gin Davide contrario Corbetta Alessandro Contrario Contrario Duca Giovanni Contrario Riva Paola Patrizia Contraria Romano Flaviano Contrario Cacciatori Alessandro Contrario Nerazzi Gianluca Contrario Dolotto Massimiliano Contrario Contrario Pozzoli Emanuele Contrario Alfieri Piero Angelo Astenuto Cazzaniga Sergio Gianni Favorevole Cattaneo Andrea Favorevole Adaloni Stefano Favorevole Maria Giovanna Favorevole però volevo fare una precisazione per il segretario Questo emendamento non era procedibile nel suo è stato dichiarato non procedibile dal dottor Ronzoni non so se si può votare lo stesso nel suo complesso non era procedibile E' comunque votabile nel senso il problema si arriva alla fine quando il consiglio prende atto del fatto che non è procedibile però e devi motivare se la provi a dare la motivazione. Ok Si può anche prescindere dai pareri tecnici In questo caso In questo caso lo rimbalziamo Duca Giovanni Cacciatori Alessandro Tolotta Massimiliano Marazzi Gianluca Mentre favorevoli Cazzaniga Sergio Gianni Tettamanzi Maria Giovanna Villa Fabrizio Cattaneo Andrea Maddaloni Stefano E Astenuto Alfieri Piero Angelo Quindi abbiamo dieci contrari Cinque favorevoli E un astenuto Benissimo Allora adesso Per venire sull'emendamento Allora l'emendamento adesso da costituirsi in realtà sarà una richiesta al Consiglio Comunale per il seguente emendamento agli schemi di bilancio di previsione del triennio dei suoi allegati per la spesa solo per l'anno 2020 Una minore spesa in riduzione come scritto nell'altro emendamento Riduzione stanziamento IRAP su compensi indennità organi istituzionali partecipazione di decentramento missione 1 programma 1 capitolo 50 variazione meno 1500 che verrà messo come i precedenti nella maggiore spesa nel fondo di iscrizione fondo interventi emergenza coronavirus missione 11 programma 2 Capitolo qui segnato XXXX perché poi verrà segnato dal ragioniere Ronzoni più 1500 e quindi va pareggio per l'anno 2020 questo è l'emendamento al bilancio che viene proposto fra questi due capitoli Allora procediamo alla votazione dell'emendamento così come illustrato dall'assessore Riva Carena Roberta favorevole Brusca Gin Davide Favorevole Corbetta Alessandro Favorevole Duca Giovanni Favorevole Riva Paola Patrizia Favorevole Romano Flaviano Favorevole Cacciatori Alessandro Favorevole Merazzi Gianluca Favorevole Favorevole Volotta Massimiliano Favorevole Favorevole Pozzolo Emanuele Favorevole Favorevole Alfieri Piero Angelo Astenuto Cazzaniga Sergio Gianni Contrario Contrario Battaneo Andrea Contrario Battaloni Stefano Contrario Settamanzi Maria Giovanna Contrario Villa Fabrizio Favorevole Favorevole Quello che ci eravamo detti Abbiamo Dieci favorevoli Sono Carena Roberta Favorevole 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 Dieci cinque e uno Benissimo grazie Allora adesso Dobbiamo votare Gli emendamenti Che non sono stati Ne mancano tre Esatto Allora Quindi votiamo L'emendamento numero quattro Proposto da il capigruppo Partito Democratico Besana for future e Besana attiva Quindi teniamo sempre la formula del votiamo l'emendamento e non accoglimento e non accoglimento giusto? Esatto Perfetto Allora votiamo l'emendamento numero quattro presentato dai capigruppo Almeno il titolo Roberta scusa Scusami Mi scusi Allora lo stanziamento Io leggo quello che ho qui davanti Stanziamento sull'annualità 2020 Al capitolo Teg 860 Spese per politiche giovanili Va bene? Non sento Perfetto grazie Solo per sapere anche i consiglieri proprio almeno cosa stiamo votando Grazie mille Per politiche giovanili Quindi Carena Roberta Contrario Brusca Gin Davide Contrario Corbetta Alessandro Contrario Duca Giovanni Contrario Riva Paola Patrizia Contrario Romano Flaviano Contrario Contrario Cacciatori Alessandro Contrario Luca Contrario Dolotta Massimiliano Contrario Pozzoli Emanuele Pozzoli Emanuele non ti abbiamo sentito Contrario Contrario Alfieri Piero Angelo Astenuto Cazzaniga Sergio Gianni Favorevole Cattaneo Andrea Favorevole Maddaloni Stefano Favorevole Tettamanzi Maria Giovanna Favorevole Villa Fabrizio Favorevole Bene Riepiloghiamo Abbiamo Dieci favorevoli Carena Roberta Pozzoli Contrari Carena Roberta Pozzoli Emanuele Corbetta Alessandro Romano Flaviano Riva Paola Patrizia Brusca Gin Davide Duca Giovanni Cacciatori Alessandro Tolotta Massimiliano E Merazzi Gianluca Che hanno votato no Abbiamo eh cinque voti favorevoli Sono Cazzaniga Sergio Gianni Tettamanzi Maria Giovanna Giuseppina Villa Fabrizio Cattaneo Andrea E Maddaloni Stefano E un astenuto Alfieri Piero Angelo Benissimo Adesso andiamo a votare l'emendamento numero cinque presentato dai capigruppo Partito Democratico Besana for Future Besana Attiva ehm riguardante l'azzeramento dello stanziamento di euro ottanta mila eh deciso con atto del Consiglio Comunale numero trentotto duemiladiciannove. Questo è quello che assumo. Quindi votiamo questo emendamento numero cinque. Carena Roberta Contrario Brusca Gin Davide Contrario Corbetta Alessandro Contrario Duca Giovanni Contrario Riva Paola Patrizia Contrario Romano Flaviano Contrario Contrario Cacciatori Alessandro Contrario Contrario Merazzi Gianluca Contrario Contrario Tolotta Massimiliano Contrario Contrario Pozzoli Emanuele Contrario Alfieri Piero Angelo Astenuto Astenuto Cazzaniga Sergio Gianni Favorevole Cattaneo Andrea Favorevole Maddaloni Stefano Favorevole Tettamanzi Maria Giovanna Favorevole Favorevole Villa Villa Fabrizio Favorevole Riepiloghiamo Abbiamo dieci voti contrari sono Carena Roberta Pozzoli Emanuele Corbetta Alessandro Romano Flaviano Riva Paola Patrizia Bruscagin Davide Duca Giovanni Cacciatori Alessandro Tolotta Massimiliano Merazzi Gianluca Abbiamo cinque voti favorevoli Cazzaniga Sergio Gianni Tettamanzi Maria Giovanna Giuseppina Villa Fabrizio Cattaneo Andrea e Maddaloni Stefano e abbiamo una stensione Alfieri Piero Angelo Benissimo allora scusate ma non ho nessuna specifica qui sotto mano sull'emendamento numero 6 presentato dai Capigruppo Partito Democratico Villa Filippini Biblioteca ok perfetto perché non ho qui scritto niente allora Biblioteca Villa Filippini emendamento numero 6 proposto dai Capigruppo Partito Democratico Besana for Future Besana Attiva Carena Roberta Contrario Brusca Gin Davide Contrario Corbetta Alessandro Contrario 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 Duca Giovanni Contrario Riva Paola Patrizia Non ti abbiamo sentito Paola Contrario Romano Flaviano Contrario Cacciatori Alessandro Contrario Contrario Merazzi Contrario Contrario Tolotta Massimiliano Contrario Pozzoli Emanuele Contrario Alfieri Piero Angelo astenuto Cazzaniga Sergio Gianni favorevole Cattaneo Andrea favorevole Maddaloni Stefano favorevole Settamanzi Maria Giovanna favorevole Villa Fabrizio favorevole riepiloghiamo abbiamo dieci voti contrari sono Carina Roberta Pozzoli Emanuele Corbetta Alessandro Romano Flaviano Riva Paola Patrizia Rusca Gindavide Duca Giovanni Cacciatore Alessandro Tolotta Massimiliano e Merazzi Gianluca abbiamo cinque voti favorevoli che sono Cazzaniga Sergio Gianni Tettamanzi Maria Giovanna Giuseppina Villa Fabrizio Cattaneo Andrea e Maddaloni Stefano e abbiamo un astenuto che è Alfieri Piero Angelo Perfetto allora secondo me non abbiamo altro da votare giusto? Correggetemi da 82 mila euro quello più importante è ragione sono andata in pocarte da tutte le le vostre faccine si sono spostate tutte e non vi trovo più e quindi sono andate in totale confusione allora adesso votiamo anche questo adesso votiamo anche questo perfetto allora votiamo l'emendamento finalizzato all'utilizzo immediato delle risorse assegnate al comune di Besana in Brianz per solidarietà alimentare per l'importo di euro 82 mila 350 Carena Roberta favorevole Brusca Gin Davide favorevole Corbetta Alessandro favorevole Duca Giovanni favorevole Riva Paola Patrizia favorevole Romano Flaviano favorevole Cacciatore Alessandro favorevole Merazzi Gianluca favorevole Tolotto Massimiliano favorevole Pozzoli Emanuele Pozzoli Emanuele favorevole Alfieri Piero Angelo favorevole favorevole Cazzaniga Sergio Gianni favorevole Cattaneo Andrea favorevole Maddaloni Stefano favorevole Settamanzi Maria Giovanna favorevole Villa Fabrizio favorevole perfetto riepiloghiamo ma credo all'unanimità unanimità benissimo sono tutti e sedici quindi l'unanimità che leggo benissimo ringrazio tutti i consiglieri per l'unanimità adesso votiamo l'immediata eseguibilità giusto? no lo approviamo il bilancio prima magari sì il bilancio prima sì assolutamente ha ragione allora aspettate che riprendo per l'approvazione del bilancio finanziario di previsione 2020-2022 Carina Roberta favorevole Brusca Gin Davide favorevole Corbetta Alessandro favorevole Duca Giovanni favorevole Riva Paola Patrizia favorevole Romano Flaviano favorevole Cacciatori Alessandro favorevole Merazzi Gianluca favorevole Tolotto Massimiliano favorevole Pozzoli Emanuele favorevole Alfieri Piero Angelo astenuto Cazzaniga Sergio Gianni contrario Cattaneo Andrea contrario Maddaloni Stefano contrario Tettamanzi Maria Giovanna contrario Villa Fabrizio contrario ti epiloghiamo abbiamo dieci voti favorevoli di Carena Roberta Pozzoli Emanuele Corbetta Alessandro Romano Flaviano Riva Paola Patrizia Brusca Gin Davide Duca Giovanni Cacciatori Alessandro Tolotta Massimiliano Merazzi Gianluca cinque voti contrari Cazzaniga Sergio Gianni Tettamanzi Maria Giovanna Giuseppina Villa Fabrizio Cattaneo Andrea e Maddaloni Stefano e un astenuto Alfieri Piero Angelo Benissimo grazie quindi adesso l'immediata eseguibilità questa volta è giusto benissimo allora votiamo per l'immediata eseguibilità Carena Roberta Favorevole Brusca Gin Davide Favorevole Corbetta Alessandro Favorevole Duca Giovanni Favorevole Paola Patrizia Favorevole Romano Flaviano Favorevole Cacciatori Alessandro Favorevole Merazzi Gianluca Favorevole Dolotta Massimiliano Favorevole Pozzoli Emanuele Favorevole Alfieri Piero Angelo Favorevole Cazzaniga Sergio Gianni Astenuto Cattaneo Andrea Astenuto Maddaloni Stefano Astenuto Tettamanzi Maria Giovanna Astenuto Villa Fabrizio Astenuto Bene Se vogliamo riepilogare Abbiamo dieci voti favorevoli di Carena Roberta Pozzoli Emanuele Corbetta Alessandro Romano Flaviano Riva Paola Patrizia Anzi undici scusate Riva Paola Patrizia Brusca Gin Davide Duca Giovanni Cacciatori Alessandro Colotta Massimiliano Merazzi Gianluca Alferi Piero Angelo Quindi undici voti a favore E cinque Astenuti Che sono Cazzaniga Sergio Gianni Tettamanzi Maria Giovanna Giuseppina Villa Fabrizio Cattaneo Andrea E Maddaloni Stefano Molto bene Allora A questo punto direi che Possiamo chiudere Il nostro consiglio comunale Io ringrazio tutti i consiglieri Che hanno partecipato Ringrazio particolarmente Tutti i capi gruppo Che sono stati Molto collaborativi Sia per le decisioni di oggi Sulle modalità Le votazioni Eccetera Che è poi nei giorni scorsi Nelle video Chiamate che ci siamo fatti Come detto dal sindaco Io mi prendo l'impegno Settimanalmente Di chiamarvi E parlare insieme Di tutto quello che ci sarà Da parlare Magari cercherò di trovare Un collegamento migliore Rispetto all'ultima volta Visto che Non mi vedevate Ne sentivate Però in qualche maniera Proveremo a fare Comunque Faccio a tutti i cittadini Di Besana Un appello A nome dell'intero Consiglio comunale Tutto l'intero Consiglio comunale Di Besana In Brianza Vi chiede Di continuare A restare A casa Seguire le regole Perché Forse Cominciamo a vedere Una strada Non più in salita Ma c'è ancora Tanto 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 Da fare Perché la situazione Migliori E tutti Noi Tutti Dal primo All'ultimo Dobbiamo seguire Le regole Restare in casa E uscire solo Per le strette necessità Come ci è stato detto Da tutte le parti E non andare A fare la passeggiata Anche se c'è il sole Io vedo Dietro casa mia Tanti bei prati Ci sono tante Ancora troppe persone Che vanno A fare la passeggiata Col cane Invece che da soli In due In tre A camminare A correre La corsetta Non è ancora Il momento C'è il bel tempo È bello stare al sole A tutti piacerebbe Poter di nuovo Uscire tranquillamente Non è ancora Il momento Per farlo Per poterlo fare Tutti al più presto Bisogna che tutti Adesso ci comportiamo Responsabilmente Quindi Da parte di tutto Il consiglio di Besana e Brianza Che so In questo momento Di rappresentare Pienamente Con queste parole Un caloroso appello A tutti voi Cari amici Besanesi Continuiamo A seguire Le regole E speriamo Tutti insieme Di venirne fuori Al più presto Grazie E buona serata A tutti Buona serata Buona serata Grazie Buona serata 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 non la vedo è ormai il big side bravo arrivederci a tutti buona serata ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao